Non mi hanno detto il nome dell'assessore. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo incontro, a questa giornata di lavori che si preannuncia estremamente ricca e interessante, ricca di dati economici, vedrete, ricca di spunti di riflessione. Questo non vuole essere un convegno come gli altri, nell'intenzione degli ideatori. La Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che ha il merito di avere creato questa iniziativa, che si inserisce in un quadro di altri incontri che poi avverranno successivamente nei prossimi mesi. Io sono Anna Scafuri, lavoro alla redazione economica del Tg1 da molti anni. Il titolo di questo nostro incontro di questa sera è Siena 2030, verso un nuovo modello di sviluppo del territorio. Questo incontro ha un obiettivo molto concreto, cioè quello di partire dai dati economici, che sono stati raccolti con un lavoro molto minuzioso, direi quasi certosino, con l'obiettivo proprio di elaborare una visione di medio e lungo periodo e definire strategie per lo sviluppo del territorio. La Fondazione Monte dei Paschi di Siena si è messa proprio a capo di questo, che è un tentativo molto interessante, molto difficile secondo me, però assolutamente meritorio, che dovrebbe essere replicato in altre zone d'Italia. Questo quindi, come vi dicevo, è il primo incontro pubblico qui a Siena, una città straordinaria, meravigliosa, io mancavo da un po' di tempo e passando avanti al Duomo, vi devo confessare che per un attimo mi è mancato il respiro al pensiero, a rivedere dopo un po' di anni che non rivedevo la bellezza del Duomo che lascia veramente senza fiato. Questa è una città assolutamente straordinaria, meravigliosa, piena di energie, piena di giovani, con due meravigliose università, note in tutto il mondo, che però in questo momento necessita e vuole riflettere su un salto di qualità che vuole fare. E questa quindi è una fase di transizione in cui si studia, si pensa, si lavora. E quindi la Fondazione vuole proprio mettere alla base della sua azione futura, nell'arco di 5-10 anni, i risultati, gli spunti, le idee che verranno fuori da questa giornata. La parola chiave, secondo me in questo caso è visione, cioè si cerca una visione del futuro. Si cerca una visione del futuro, la parola visione è assolutamente importante. E l'obiettivo, l'orizzonte, appunto il 2030. Darsi un orizzonte di solito aiuta a realizzare concretamente le cose. E naturalmente non c'è, non ci può essere una visione del futuro senza un'analisi della realtà. Bisogna partire dai dati di realtà, dall'analisi dei dati economici, sociali, per arrivare a delle conclusioni che poi siano praticabili. E vedrete nello studio che sarà illustrato tra poco, che verrà appunto illustrato con numerose slide, si toccheranno un po' tutti i settori, tutti i settori sociali, economici, l'ambiente, il turismo, la sanità, la tecnologia, il sistema universitario di questa città e anche di tutta la provincia. Qual è lo sforzo che vogliamo fare oggi? Quello di unire i punti, come si dice. Cioè trovare le connessioni tra i diversi settori. Perché è chiaro che ci vuole una sinergia tra i diversi settori per creare sviluppo. E dico forse una banalità, ma si cresce soltanto insieme, solo se c'è un progetto organico condiviso da tutte le forze sociali ed economiche di un territorio. E naturalmente oltre dieci anni di crisi economica hanno lasciato il segno nel Paese e anche qui, in questa provincia che comunque è una provincia baciata dal Signore. Una crisi che come sapete benissimo ancora non è finita, anzi siamo ancora in una fase di grande debolezza con molte incognite all'orizzonte e sostanzialmente abbiamo perso un terzo della nostra capacità produttiva, delle nostre aziende con settori duramente penalizzati. Ovviamente è facile immaginare da dove può arrivare la crescita. Vediamo intorno a noi il mondo trasformarsi grazie appunto al digitale, all'innovazione, a cambiamenti molto veloci che stanno trasformando completamente le nostre vite. L'innovazione ovviamente ha una forte azione, secondo me, sulle dinamiche socio-economiche. È inevitabile che sia così. Tuttavia, questo può avvenire in molti modi, secondo me, può avvenire anche in modi negativi, quindi va governato questo fenomeno. Ossia il modello sociale, cioè che tipo di società noi vogliamo, questa idea viene senz'altro prima della tecnologia ed è una responsabilità della politica, cioè la politica che deve dire verso quale direzione andare, che tipo di società si vuole, responsabilità non solo però della politica ma anche degli imprenditori, ovviamente, tutto il mondo imprenditoriale. Naturalmente un'altra parola chiave obbligata è la sostenibilità, che oggi sentiamo dire un po' a proposito di tutto, ma la crescita economica deve obbligatoriamente essere sostenibile. Sostenibile e per creare questa crescita sostenibile bisogna avere una rete, cioè bisogna fare le connessioni di cui parlavo prima, una strategia comune, questo è importante. Ovviamente le istituzioni, gli imprenditori, il mondo sindacale, tutti devono forse cedere un pochino della propria sovranità, tra virgolette, per mettere insieme le idee. Naturalmente l'investimento prioritario, sicuramente verrà detto molto bene successivamente, è sulle competenze, bisogna lavorare, investire enormemente sulle competenze, non solo sulle competenze digitali, sulle competenze in generale e naturalmente anche su quelli digitali. Insomma ci vogliono dei cambiamenti radicali, cioè non è il momento di stare in mezzo al guado, bisogna governare questi cambiamenti turbinosi e quindi ci vogliono, secondo me, questo è ovviamente il mio punto di vista, cambiamenti radicali, sia dal punto di vista normativo, organizzativo, culturale soprattutto, perché dopo forse dobbiamo cambiare anche un po' il nostro modo di pensare. Noi come italiani abbiamo un'enorme opportunità, cioè abbiamo competenze di eccellenza che possiamo coniugare con una grande attrattività dei nostri territori, basta guardarsi intorno, qui siamo in Toscana, la parola toscana è di per sé un brand, anche la parola siena è un brand, e bisogna saperlo gestire questo brand importante. E tutto questo va messo in rete per creare innovazione, conoscenza e produzione. E secondo me rispondere con delle filiere organizzate, proprio filiere italiane, questo ci permette di essere meno deboli sul panorama internazionale, dove vediamo che l'Europa è un po' schiacciata, tra i colossi americani da un lato e asiatici dall'altro, che ci vendono la loro tecnologia che poi noi usiamo, e quindi finiamo per avere una posizione assolutamente minoritaria e non propositiva. Ecco, io a questo punto passerei rapidamente ai saluti istituzionali, quindi chiamo al microfono, purtroppo non sarà con noi il sindaco di Siena, ma lo sostituisce Luciano Fazzi, assessore al bilancio del Comune, di rappresentanza appunto del sindaco. Ecco, venga pure al microfono. Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro. Anche se l'invito è fatto dalla Fondazione Monte dei Paschi, oggi mi sento un po' il padrone di casa, perché come sapete questa struttura molto bella è stata inaugurata pochi giorni fa, come un paio di settimane fa, e questa praticamente è stata una realizzazione fortemente voluta dall'amministrazione che intende investire anche sul turismo congressuale, peraltro una visione strategica, anche questa credo importante per la città. Oggi diamo un pochino corpo a quello che è il percorso condiviso che abbiamo iniziato qualche mese fa su proposta della Fondazione Monte dei Paschi. A tale riguardo ringrazio il Presidente Rossi che ci ha coinvolto fin dall'inizio. Il titolo di oggi è Siena 2030 verso un nuovo modello per il futuro del territorio. Ecco, io credo che con l'incontro di oggi cominciamo a dare contenuto a quel documento programmatico che abbiamo tirato giù in questi mesi di lavoro e di lavoro condiviso con tutte le istituzioni che sono presenti sul territorio. Io già ebbi occasione di dire a una riunione della Fondazione che questo ad esempio è uno strumento importante già per la programmazione di ogni ente. Quando ogni ente fa la propria programmazione come sapete gli enti territoriali soprattutto gli enti locali debbano presentare un documento che si chiama DUP documento unico di programmazione che viene presentato con ampio anticipo rispetto a quelli che sono i tempi della programmazione. Ecco, un documento come questo potrebbe essere un elemento importante sul quale basare la programmazione di ciascun ente perché è ricco di tutta una serie di informazioni sociali ed economiche che sono fondamentali per gli enti. Quindi un benvenuto a tutti e spero che questo sia il primo di un incontro di una serie di incontri importanti che come dicevo riescano a dare maggior contenuto a tutta la programmazione che abbiamo fatto in questi giorni. Vi ringrazio. Ecco, quindi continuiamo con l'avvocato Silvio Franceschelli presidente della provincia di Siena. Buonasera a tutti. Io mi associo al saluto e al ringraziamento al presidente della fondazione e a tutti gli intervenuti. In questo incontro di oggi ci sono due parole che sono estremamente significative per me. Futuro e soprattutto territorio. Siena è una provincia estremamente variegata diversa nei suoi connotati ma con grandi capacità e con grandi risorse. In quel quadro d'insieme che vedevamo prima credo c'erano delle immagini non riproducibili facilmente che sono state, sì in questi anni forse anche un po' troppo banalizzate ma che sono la vera nostra fortuna e il nostro avvenire. Chiaramente è arrivato il momento anche per la città per la provincia di cominciare a ragionare non più guardando al passato a una retrospettiva anche di problemi che ne sono stati fin troppo enfatizzati. Oggi bisogna guardare al futuro capire come quegli asset che noi abbiamo li possiamo mettere al sistema innovando anche dal punto di vista della crescita economica. In questi anni il turismo è cresciuto veramente molto ora si arriverà un momento di svolta dovremo capire se quel turismo che è cresciuto è figlio anche delle sventure e delle disgrazie che si sono riprodotte in giro per il mondo e hanno fatto sì che molte persone abbiano preferito i borghi di campagna le grandi città dove il pericolo del terrorismo era importante o se il nostro è un territorio che ha un assetto vero e proprio. E credo che qualche sorpresa i nostri primi dati di questi mesi ce li daranno. ci diranno che forse quella crescita che noi abbiamo avuto in questi anni sia un po' fermata sia un po' arrestata. Cosa voglio dire con questo? Io vengo da un territorio e sono sindaco anche del comune di Montalcino molti me lo rimproverano perché dice ti senti più sindaco e presidente. Purtroppo questa riforma ci ha diviso in due anche se io sono grosso e robusto ma in due mi rimane difficile farlo. Dedico quattro giorni al comune e due alla provincia in un territorio che è il nostro in cui io dico sempre nel dopoguerra eravamo un paese di sfortuna dove non c'era niente molti territori della nostra provincia erano così. Pensate alla Val d'Orcia all'epoca era veramente il nulla erano dei granai quando poco più che si sfamava le famiglie oggi il grano non vale più niente qui vedo direttori delle confederazioni il grano non vale più niente in termini economici ma vale in termini paesaggistici e di manutenzione del territorio questo tema è un tema che va affrontato come si fa a sostenere un'economia che è in profonda depressione perché figlia delle dinamiche globali rispetto alle quali noi non siamo in grado di poter intervenire ma che non è solo un'economia su un bene primario ma anche un'economia che mantiene tutta una serie di beni collaterali che sono l'assetto idraulico del territorio e del paesaggio per cui io è con questo che porgo l'auspicio così come è fatto dal Comune di Siena che questo sia l'inizio di una serie di incontri che mettono al tema e al centro il nostro territorio per vedere funzioni e sviluppo chiudo facendo un augurio a tutti gli amministratori che ieri si sono conclusi i turni anche di ballottaggio che hanno davanti a sé cinque anni per programmare che lo si faccia con il senso del territorio con il senso del bene comune non guardando troppo spesso anche le nostre divisioni di pensiero e politiche perché come dico sempre i bisogni della gente non hanno colore grazie ora chiamo il professor Francesco Frati che è il rettore dell'Università degli Studi di Siena buonasera a tutti grazie per essere qua grazie grazie alla fondazione Monte dei Paschi al presidente Rossi per lo stimolo che ci ha fornito qualche mese fa a tutto il suo staff che ha lavorato su questo progetto in questi mesi e che chiaramente si prende l'impegno di continuare a lavorarci in preparazione a questo incontro abbiamo avviato anche con il contributo dei colleghi del nostro Ateneo abbiamo avviato una riflessione lo abbiamo fatto condividendo le idee con altri attori del territorio tutti coloro che oggi partecipano e che saranno anche successivamente chiamati a parlare lo abbiamo fatto partendo dai dati e così facendo assumendo una consapevolezza un'autoconsapevolezza di ciò che siamo adesso che è probabilmente qualcosa di diverso di ciò che eravamo prima di ciò che eravamo anche solo dieci anni fa io penso che da questa consapevolezza debba partire la visione lo sguardo al futuro a cui si faceva riferimento prima negli interventi che mi hanno preceduto senza la consapevolezza di ciò che siamo adesso non credo che si possa lavorare e quindi della consapevolezza di quali sono le basi che sono probabilmente basi molto ricche non sarà possibile lavorare per impostare il progetto di sviluppo di questa città ecco perché io penso che la consapevolezza sia iniziale sia il primo passo da compiere per guardare anche con ottimismo al futuro poi ovviamente l'Ateneo che io ho l'onore di rappresentare è stato coinvolto e mi piace ricordare ricordare aspetti che poi magari saranno anche oggetto della successiva tavola rotonda mi piace ricordare aspetti dove in qualche modo possiamo contribuire a valorizzare le peculiarità di questo territorio di questa città penso ovviamente al tema delle scienze della vita sarà sicuramente sviluppato anche grazie all'intervento di Rino Rappuoli successivamente penso alle caratteristiche a cui tutti noi teniamo molto che caratterizzano questo territorio sul tema dell'agroalimentare che non può non rappresentare un asset fondamentale a cui pensare nella definizione di questo nuovo paradigma di sviluppo però penso anche a cose a cui magari qualche volta non pensiamo ma che certamente fanno parte del bagaglio culturale magari anche acquisito più recentemente di questa città e qui mi riferisco soprattutto all'innovazione digitale per cui l'università ha certamente contribuito anche attraverso la creazione di spin-off Questit ne è un esempio ne parleremo successivamente spin-off che poi possono lavorare in collaborazione con l'università anche attraverso lo strumento dei cosiddetti laboratori congiunti quindi l'università c'è c'è l'università con le sue competenze con le sue competenze professionali disciplinari per sostenere l'occupabilità e la creazione di impresa in questo territorio c'è l'università perché garantisce a questo territorio quel patrimonio culturale fondamentale che lo eleva rispetto alla media delle altre città che lo eleva rispetto alla media degli altri territori e poi consentitemi un'ultima riflessione si sta parlando di innovazione chiaramente è il tema che sottende questa nostra riflessione l'innovazione non può che essere la cifra caratteristica della gioventù dei giovani e questo permettetemi quest'ultima considerazione questa e questo territorio questa è una città fatta di giovani i 12 13 14 mila studenti fuori sede che popolano questa città durante l'anno accademico proveniente da tutte le parti del paese ma anche dal resto del mondo rendono questa città una città giovane e garantiscono a questo territorio quell'humus quella materia prima quel capitale umano che è fondamentale per guardare al futuro con l'innovazione grazie ecco adesso chiamo il professor Pietro Cataldi che è rettore dell'università per stranieri di Siena grazie buonasera a tutti e a tutte credo che la cosa che ha detto il rettore Frati sia decisiva ai giovani Siena è una città di giovani è vero si vede camminando per le strade però è anche una città che invecchia le due cose convivono e dobbiamo fare in modo che si scambino il bisogno e la ricchezza che comprendono unite ci sono questi 13 14 forse 15 mila studenti fuori sede che vengono da circa 100 paesi del mondo ma ovviamente in netta prevalenza italiani che transitano da Siena fanno una grande esperienza portano la loro ricchezza umana culturale il loro bisogno portano anche ricchezza economica con le loro famiglie naturalmente prendono da Siena dalle università di Siena da tutte le strutture le istituzioni del territorio quello che il territorio è in grado di offrire e poi vanno via io credo che noi dobbiamo fare in modo che da qui al 2030 anche questo tema possa essere posto alcuni di loro una parte possibilmente non residuale occasionale dovrebbe poter restare qui cioè Siena dovrebbe essere in grado non esercitando i modi in cui è stato compiuto nelle società arcaiche con rapimenti avventurosi come il ratto delle sabine che fa nascere Roma non faremo il ratto degli studenti delle studentesse però forse quello che possiamo fare è fare in modo che la città non sia solo una città della quale gli studenti e le studentesse si innamorano perché questo succede ma che offra anche un'opportunità per i migliori di loro perché questo potrebbe fare in modo che arriviamo all'appuntamento del 2030 con una città non troppo invecchiata e con una città più forte da tutti i punti di vista le università ovviamente sono su questo impegnate sono pronte il nostro lavoro possiamo essere la sinapsi tra queste due aree della mente collettiva che qui grazie alla fondazione grazie al presidente Rossi che ringrazio e che credo stia facendo davvero un lavoro importante per la città e per tutte le istituzioni è stato avviato buon lavoro a tutti grazie grazie lettore ed ora chiamo il dottor Dimitri Bianchini che è il responsabile area territoriale toscana Banca Monte dei Paschi di Siena buonasera a tutti anche da parte mia un ringraziamento importante alla fondazione Monte dei Paschi al presidente a tutte le istituzioni che hanno partecipato a questo progetto a questo sviluppo perché anche come banca appunto quando parliamo di territorio di futuro di sistema produttivo sicuramente e di giovani come ho sentito adesso finire giustamente dai colleghi è un aspetto importante perché sicuramente per la banca per il Monte dei Paschi essere su Siena sulla provincia di Siena da dove tutto è partito considerando che la banca più antica del mondo è al 1472 e al tempo stesso nel nuovo piano industriale quello che interessa è proprio rilanciarla ancora di più partendo da questa ipotesi come previsto nello stesso piano industriale di Open Innovation e quindi proprio di scambio di informazione di cultura con la stessa con la stessa università voi considerate che il progetto Officine MPS si rappresenta e parte proprio da questo scambio soprattutto con le start up per ottenere finanziamenti poi particolarmente destinati al territorio e quindi offre la possibilità di avere nuove idee nuova formazione nuovo business che serve al tempo stesso alla banca e che la banca poi possa assistere quello che è il sistema produttivo quindi quando parliamo di futuro di giovani interessa esserci ottima l'iniziativa alla quale siamo ben felici di aver partecipato per mettere insieme tutte quelle che sono le forze del territorio proprio perché da questo credo e la banca crede sicuramente che possa scaturire un miglioramento un valore aggiunto poi per tutto quello che è il territorio quindi grazie ancora alla fondazione per quello che ha organizzato e buona serata a tutti grazie ecco chiude questa prima parte dedicata ai saluti istituzionali il dottor Carlo Rossi presidente della fondazione Monte dei Paschi di Siena grazie a tutti buonasera saluto tutti gli intervenuti le autorità su eccellenza il prefetto il signor questore tutti quelli che mi hanno preceduto ringraziamento particolare all'amministrazione comunale di Siena per averci concesso questa meravigliosa location per questa prima diciamo di riflessione sul nostro futuro che la fondazione propone a tutto il territorio ringrazio in modo particolare il presidente e il segretario generale della camera di commercio che poi introdurranno i lavori dopo di me e che sono insieme al nostro ufficio studi e un po' a tutta la nostra struttura della fondazione gli artefici delle informazioni dei dati che poi vi verranno illustrati saluto e ringrazio naturalmente la dottoressa Scafuri che fa da moderatrice di questa tavola rotonda di questo incontro insieme a lei poi ai relatori della tavola rotonda il professor Marco Cammelli dell'università di Bologna ma è qui soprattutto in quanto presidente della commissione cultura dell'Acri il dottor Raffuoli il professor Riccaboni e spero anche l'ingegner Landi che ha avuto qualche problema di aereo nella dannizza insomma forse non ce la fa non funzionano solo in Italia queste cose sarà degnamente sostituito certamente allora le motivazioni di questa iniziativa sono già state ampiamente dette è un'idea che ci è venuta lo scorso anno poco dopo l'insediamento della nostra diputazione amministratrice lo abbiamo scritto nei nostri documenti e oggi siamo qui siamo qui perché noi riteniamo che sia ci spetti sia il nostro compito quello di essere una realtà un ente che pensa al futuro che vuole come dire far proprie delle progettualità durevoli vuole essere un incubatore di progettualità innovativa questo lo riteniamo un elemento della nostra della nostra vocazione di ente filantropico del territorio sono state dette alcune parole visione diceva prima la dottoressa Scafuri anche sostenibilità ecco io e poi il presidente della provincia parlava di futuro ha parlato di territorio ecco io credo che la cosa fondamentale l'obiettivo se lo volessimo dire in poche parole di questo percorso che oggi inizia che anzi è iniziato già da alcuni mesi è riuscire a soddisfare i bisogni di oggi ma soprattutto quelli del futuro una sostenibilità cioè che tenga insieme il presente e il futuro su questo tema della sostenibilità credo che poi il professor Riccaboni e il maestro ci intratterrà molto molto più a fondo abbiamo messo insieme come avete capito una serie di istituzioni tutte le istituzioni più importanti perché questo percorso lo vogliamo fare insieme non 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 abbiamo non abbiamo desideri come dire di primogenitura ma veramente il coinvolgimento di tutti noi l'esperienza di questo territorio un po' di ovunque ma insomma insegna che quando le cose si fanno insieme riescono assolutamente meglio di quando si fanno da soli dicevo di questa analisi verranno illustrati alcuni alcuni dati io qui ho qualche appunto ma sorvolo perché questa sala è molto bella ma ancora l'aria condizionata non è stata accesa e quindi si nota e quindi non vi voglio appesantire su questo ma qualcosa è stato già detto già accennato una città di giovani ma dove per esempio oltre il 43% degli abitanti sono pensionati è un dato che è il peggiore della Toscana la quale Toscana è una delle regioni peggiori in Italia e in Italia è uno dei paesi peggiori in Europa non voglio richiamare ma capite bene che non è così semplice parlare di sviluppo e di crescita partendo da questo dato su questo dobbiamo certamente invertire la tendenza è un elemento che ha bisogno di interventi nazionali e sovranazionali naturalmente però qualcosa forse possiamo fare noi nel nostro piccolo quest'anno abbiamo finanziato per esempio un bando per i campi solari direte è una sciocchezza certamente però credo che se vogliamo aiutare i bambini e le famiglie dobbiamo da qualche parte dobbiamo iniziare i giovani certamente le università sono delle eccellenze però anche qui poi lo vedrete per esempio le imprese giovanili stentano a decollare rispetto per esempio alle altre città universitarie c'è della Toscana c'è un deficit come tentare di superarlo certo questo è un territorio che per decenni è vissuto è vissuto grazie all'attività terziaria e segnatamente al mondo della finanza e qui c'è tutti i limiti di questa storia e che forse va reinventata e modificata il volontariato è certamente una grandissima ricchezza di questo territorio moltissime associazioni moltissime cooperative sociali insomma una serie di ecco come renderlo questa sensibilità solidaristica che non nasce ora naturalmente in questo territorio viene da molto lontano questo tema ecco come renderlo strumento di crescita e di sviluppo lo stesso vale lo stesso discorso luci ombre per il mondo delle imprese anche questo lo dirà poi il presidente e il segretario della camera di commercio il 94,5% delle imprese del nostro territorio hanno meno di 10 addetti il 61% hanno un solo addetto certo forse un percorso su questo no dovremo dovremo pur ci dovremo pur pensare chiudo ringraziandovi ancora una volta e lanciando una provocazione la provocazione è questa la fondazione Montepaschi ha fatto tante cose in questo territorio lo sappiamo alcune anche non particolarmente brillanti ma ne vorrei citare due uno è il fatto di aver costituito di aver favorito diciamo un territorio cosiddetto carbon neutrality questo territorio è certificato dall'università è un territorio che in cui le emissioni di CO2 sono inferiori all'assorbimento di anidride carbonica che viene prodotto tutto questo grazie a interventi di sostegno da parte della fondazione soprattutto con l'amministrazione provinciale negli anni scorsi ecco questo è un tema che credo in termini perlomeno di marketing territoriale andrebbe certamente valorizzato un altro punto di eccellenza chiamiamolo con il suo nome è la fondazione qui è presente dottor Rino Rappuoli la fondazione di Toscana Life Sciences ecco è un'iniziativa anche questa nata una decina di anni fa un po' una scommessa oggi dà lavoro a 350 persone negli ultimi 10 anni ha attratto 90 milioni di contributi nell'ultimo anno soltanto oltre 10 milioni ci sono molte aziende incubate si è collocata nel solco di una tradizione anche questa del territorio sul tema delle scienze della vita ecco la la provocazione è la fondazione sostiene questa questa iniziativa e continuerà a farlo naturalmente in maniera molto convinta anche se all'inizio non molti ci credevano la provocazione potrebbero esserci spazi per altri settori di ricerca e per replicare questa esperienza che sta dando questi risultati una sorta di TLS2 noi siamo qui siamo disponibili a contribuire a ragionare a studiare a collaborare nell'interesse non tanto di chi in questo momento è chiamato a queste responsabilità ma soprattutto nell'interesse dei giovani del 2030 questo è l'augurio che faccio e che consegno a questo territorio per il proseguo di questo lavoro bene grazie Presidente Rossi a questo punto passiamo subito all'introduzione dei lavori che sarà effettuata dal Dottor Massimo Guasconi Presidente Camera di Commercio di Arezzo Siena per primo Grazie buonasera grazie a tutti la sala è molto gremita vedo quindi spero che la partecipazione sia anche dovuta a un interesse che questi temi generano quando una comunità come la nostra si interroga su quello che potrà essere uno scenario possibile che possiamo ovviamente contribuire a raggiungere come avete visto era previsto un mio saluto all'inizio naturalmente è stato ritenuto opportuno accorparlo all'intervento e così su questa falsa linea vorrei ricordare anche che c'è stato l'accorpamento della nostra giornata dell'economia che è un'iniziativa che normalmente la Camera di Commercio anzi tutte le Camere di Commercio d'Italia ovviamente hanno come iniziativa propria autonoma ma che quest'anno abbiamo ritenuto doveroso appunto unire a un lavoro che abbiamo portato avanti con la fondazione che ovviamente ringrazio che è stato ovviamente un po' il fulcro di questo ragionamento e di tutti gli altri enti che hanno partecipato i saluti sono già stati fatti quindi non ripeto chi ha partecipato ma che comunque ringrazio e che quindi un'occasione come questa poteva essere non solo opportuna ma necessaria perché ovviamente tutti gli studi di prospettiva poi devono partire da dei numeri da delle serie storiche che ovviamente la Camera di Commercio riesce ovviamente a dare e a darle anche con l'autorevolezza di ufficio ovviamente che detiene questa titolarità sul territorio quindi brevissimamente io cercherò di rappresentare ovviamente in modo molto più sintetico degli altri anni alcuni dati che fotografino in qualche modo gli aspetti più rilevanti diciamo della nostra economia la nostra economia ovviamente che guarda al passato al 2018 su questo ovviamente cercherò di arrivare subito a ragionare su alcuni dati come dicevo significativi ritengo allora il primo dato che ovviamente dobbiamo avere chiaro è quello legato al valore aggiunto valore aggiunto provinciale che come vede dagli istogrammi ha avuto solo due battute d'arresto nella nostra storia recente nel 2009 quando la crisi sapete si è manifestata in modo dirompente e anche nel 2013 abbiamo avuto una battuta d'arresto per il resto degli anni abbiamo avuto sempre una crescita abbastanza costante e anche nell'ultimo anno posizionandoci a 7 miliardi e 767 milioni è cresciuta di oltre l'1,60% l'1,63% in particolare andando oltre qui abbiamo la fotografia rispetto al valore aggiunto pro capite ecco qui è un dato relativo alla nostra posizione regionale quindi vediamo che cosa la provincia di Siena ha su questa partita vediamo appunto che è seconda solo a Firenze con un valore aggiunto di 29.256 euro ricordo e lo vedete nella piccola tabellina in fondo alla slide che nel 2017 il pil pro capite era a 28.500 euro quindi è cresciuta in modo anche significativo direi vedete che la media regionale è abbastanza significativamente più bassa della nostra quindi complessivamente possiamo ritenere che il nostro posizionamento a livello regionale è assolutamente di rilievo ricordo anche che il ranking tra le province italiane ha il 24esimo posto su questo dato quindi anche qui abbiamo un posizionamento notevole successivamente ci sarà chi ovviamente parlerà della qualità della vita parlerà dei posizionamenti in modo più approfondito rispetto a quello che posso fare io ecco questo è l'unico dato che non è relativo al passato ma una prospettiva una proiezione allora su questo ovviamente devo fare rendermi proprio un minuto in più perché devo spiegarvi solamente alcuni dati di base o meglio noi abbiamo per la provincia di Siena per gli anni 2021 su 2018 quindi su questi tre anni che ovviamente riguardano per una parte per il futuro che prevede questo è uno studio Prometeia un aumento di circa il 6% che poi si traducono in un valore aggiunto reale il 6% è nominale si traducono in un valore aggiunto reale del 2% ecco siccome il dato Prometeia si ferma perché non fa studi oltre i tre anni quindi oltre il 2022 abbiamo preso però riferimento quello regionale sul quale invece Prometeia si spinge fino al 2030 partendo da quello che è il dato di base che è esattamente uguale noi siamo perfettamente in linea con quello regionale quindi abbiamo anche per il regionale il valore aggiunto nominale al 6% e quello reale al 2% e guardando invece quello che sarà il trend al 2030 cioè un aumento del nominale del 27% e del 9% del valore reale ecco considerando diciamo questo valore di partenza che è uguale ma del quale purtroppo non possiamo avere dei dati di studio che ci lo confermano possiamo legittimamente attenderci che lo stesso diciamo tendenza possa essere confermata anche a livello provinciale quindi questo è l'unico dato che appunto abbiamo come prospettiva quindi che non si rivolge al passato e alla certezza del dato numerico adesso entriamo un po in quelle che sono un po i numeri anche più rilevanti che fotografano meglio la nostra economia che è molto caratterizzata da una vocazione esportativa ecco in questa tabella che vedete c'è ovviamente una serie storica anche qui dal 2016 al 2018 e come vedete dal 2016 che eravamo sotto al miliardo e 400 milioni di esportazioni siamo arrivati al miliardo e 706 del 2018 in leggera diminuzione rispetto al 2017 dell'1,3% ma se ovviamente guardiamo anche il dato delle importazioni che diminuiscono in modo ancora più significativo cioè dell'8,3% abbiamo un saldo attivo della bilancia commerciale di 1 miliardo e 120 in crescita del 2,8% quindi il dato complessivo del saldo ci conforta su comunque una tenuta e una gestione diciamo di questa partita che ancora è rilevante e viene così a confermare quanto la nostra vocazione sia ancora fortemente orientata il dato dell'incidenza sul valore aggiunto provinciale ecco vedete che al 2016 eravamo sotto al 20% sotto a un quinto diciamo di incidenza delle esportazioni sul valore aggiunto che abbiamo visto i 7 miliardi e 7 che abbiamo visto nella prima slide siamo arrivati al 2018 in leggera come vedete diminuzione come vi ho detto comunque al 23,8% ecco solo una riflessione per dire quello che il valore delle esportazioni e anche dei valori che qui non sono ricompresi ma che se le sommassimo capiremmo bene quanto sono rilevanti per la nostra economia ecco immaginiamo di sommare a questo valore nei rapporti con l'estero anche il valore che il turismo che ovviamente con i visitatori esteri ci può portare direttamente quindi senza andare noi a così cercare altri mercati ma qui arrivano possono arrivare direttamente dei valori che sono direttamente ascrivibili anche alle esportazioni e valori anche importanti guardavo e pensavo prima al rettore dell'università per gli studenti stranieri che vengono a Siena sono delle esportazioni locali quindi per noi è assolutamente importante sapere e ragionare quanto l'internazionalità di Siena possa essere valutata anche in questi dati bene velocissimamente per i continenti vediamo che l'Europa cresce cresce del 4,7% e ovviamente è il mercato ovviamente continentale più importante abbiamo un miliardo e 261 quindi abbiamo comunque una crescita rilevante l'Africa è anch'essa in crescita ovviamente in modo minimale ma in crescita ecco quello che ovviamente ci fa preoccupare è la battuta dal resto del 20% delle esportazioni nel continente americano qui non sappiamo se ovviamente avranno e in che modo in che misura avranno così inciso gli annunci i dazzi le chiusure che sono state come sapete bene in agenda nello scorso periodo sappiamo però che purtroppo il dato è quello meno 20% ed è un dato ovviamente che ovviamente non ci fa piacere vorremmo ritornare a mercati che sono più facilmente gestibili diciamo così anche per le nostre imprese che tanto investono su queste opportunità abbiamo in regresso anche l'Asia con un 5,2% e l'Oceania quindi il territorio australe quindi complessivamente abbiamo una diminuzione sì mi scusi velocissimamente allora i mercati che sono sono quelli legati alla vedete bene che è Germania sui primi 15 mercati 11 sono con il segno positivo e 6 con il segno negativo quindi abbiamo comunque i nostri mercati di riferimento come dicevo se togliamo quelli legati soprattutto agli Stati Uniti e ai mercati che avevo già indicato prima a livello continentale sono tutti in crescita così abbiamo vi do solamente i primi tre dati gli autoveicoli quindi soprattutto la camperistica che ha un meno 0,4% e quindi è intenuta le bevande che crescono moltissimo del 6% considerate anche che si riferiscono a una vendemmia 2017 che è stata una vendemmia davvero difficile quindi una produzione assolutamente penalizzata e così i medicinali i primi farmaceuti che nelle esportazioni decrescono del 7,6% ma qui ci sono dei cicli che spesso non possono essere così diciamo ascrivibili al mercato annuale rispetto ad altri prodotti le importazioni sono come dicevo più o meno in linea con quelle del del aspettate un attimo che non cambia più eccolo qua sì allora velocissimamente vi dico un dato sull'agroalimentare l'impatto economico territoriale dei prodotti DOP IGP comunque a denominazione la provincia di Siena è prima in Toscana con un valore di 449 milioni 450 milioni praticamente nel 2017 con un aumento del 4% è ovviamente l'aprime in Toscana supera di molto Firenze naturalmente questo è complessivamente agroalimentare più vitivinicolo poi vedete vedete la separazione tra food e wine è dodicesima in Italia su 107 province ovviamente quinta in Italia per la categoria del wine un dato solamente sul credito anche questo è importante per capire un po' dove le nostre imprese e le nostre famiglie stanno andando ecco qui vediamo se riesco a cambiare no non si cambia se riescono non so ecco no era quello era quello precedente grazie eh sì stavo cercando di puntare ma è allora qui vediamo che il il credito ovviamente per quanto riguarda ovviamente i prestiti si sono posizionati se partiamo dal 2010 in cui avevamo oltre 10 miliardi 10 miliardi e mezzo di prestiti di cui a breve termine 4 miliardi e 2 siamo arrivati al 31-12-2018 a 7 miliardi 4,29 e a 2 miliardi e 419 come diciamo prestiti a breve termine ecco considerate che se vedete la tabellina accanto l'Italia è in questo caso cresciuta dell'1,7% sui crediti la Toscana è ridotto dello 0,3% i crediti da stock di crediti in totale e Siena ha diminuito invece dell'1,2% e così ha diminuito ancora di più il breve termine al 3,9% quindi abbiamo una riduzione dell'accesso al credito in modo significativo anche questo dovrà essere uno dei temi su cui dovremo interrogarci se è una difficoltà o se è una scelta perché gli investimenti che evidentemente le aziende fanno hanno dei programmi non così scusate eccolo qua allora l'ultima scusate l'ultima ecco l'ultima l'ultima slide come vedete i depositi crescono in modo significativo crescono a 7 miliardi e 770 nell'ultimo anno quasi del 15% quindi abbiamo una immobilizzazione in depositi che è davvero significativa quando in Italia crescono del solo 3,2% e gli impieghi diminuiscono dell'1,1% in Italia aumentano dell'1,4% anche questo è un dato su cui dovremmo interrogarci considerate che i depositi pro capite sono di oltre 25 mila euro e siamo al 26esimo posto tra le province tra tutte le province italiane ultima slide stavolta veramente chiudiamo perché ovviamente abbiamo sicuramente sforato i termini il deteriorato allora il deteriorato è in netto calo abbiamo un calo sul anno su anno del 30 di oltre il 30% il valore Italia è di oltre il 24% quindi siamo di oltre 6 punti sopra e ovviamente quello che è da scrivere a famiglie e imprese vediamo che anche qui le famiglie lo riducono del 24% rispetto a un 21% Italia e soprattutto le imprese lo riducono di un 30% il dato Italia è un 25% noi su questo sui protesti siamo all'ottantunesimo posto quindi il dato sui protesti è particolarmente positivo e ovviamente sono con un 12,9% pro capite al 2018 ecco io ovviamente ho cercato di darvi uno spaccato sappiate che sono in linea ovviamente dati molto più approfonditi di questi e che serviranno ovviamente a chi vorrà naturalmente ragionare davvero su una fotografia del territorio in modo molto approfondito quindi lascio la parola al segretario generale Giuseppe Salvini che vi concluderà quella che è la parte camerale riguardo la demografia delle imprese e gli altri aspetti che ovviamente riguardano dati relativi al 2018 grazie a tutti ecco come dicevamo adesso è il momento del dottor Giuseppe Salvini che è il segretario generale della camera di commercio Arezzo Siena proviamo subito l'attrezzo ecco qua buon pomeriggio io sono Giuseppe Salvini sono il segretario generale e vi do come il presidente ha già iniziato un po' il trend soprattutto sull'aspetto strutturale sull'aspetto della nata immortalità del sistema delle imprese noi abbiamo esaminato come camera di commercio che vi ricordo è ufficio periferico dell'Istat noi esaminiamo a livello locale tutti i dati facciamo dei pacchetti dei dati il più delle volte non li guardiamo perché ultimamente i dati sono intonati ad una diffusa negatività ma andiamo a Roma e si fanno le rilevazioni di livello nazionale noi abbiamo esaminato gli ultimi anni dal 2010 al 2018 per capire da dove veniamo e dove stiamo andando ecco 2008 2018 sono i dieci anni topici dopo la crisi finanziaria prima ed economica dopo il mondo dal 2008 ha ripreso a camminare non so se sapete il commercio mondiale è cresciuto da 2008 prima della crisi al 2018 del 40% il pile statunitense rispetto al 2008 è cresciuto del 19% la Germania del 14% il malato d'Europa che era la Spagna è cresciuto del 4% l'Italia non Siena l'Italia è meno 3% quindi dal 2008 in serie storica al 2018 l'Italia ha avuto un altro episodio di crisi nel 2012 il famoso double dip ma in questi dieci anni il sistema paese non si è rimesso in moto ancora meno 3% di pile rispetto al 2008 gli investimenti dal 2008 al 2018 sono calati del 20% questo la dice lunga di qual è il problema dell'Italia la somma come diceva Totò non fa il totale da noi gli investimenti in calo i consumi dal 2008 in calo del 3% il sistema paese è rimasto in piedi grazie come diceva prima il Presidente all'export l'export dal 2008 in Toscana e in terra di Siena ma generalmente in Italia è cresciuto del 17% quindi questo è un po' il filo conduttore del rapporto una situazione polarizzata una situazione come si dice a vitalità differenziata le imprese che hanno una proiezione sui mercati internazionali contando sulla ripresa di mercati espansivi sono ben performanti anche in chiave attuale le imprese che hanno dimensione di attività economica sul mercato domestico sono in diffuso rallentamento i consumi sono stagnanti in Italia gli investimenti sono stagnanti quindi una situazione e questo vedrete il filo conduttore del rapporto a doppia velocità di performance bene chi presidia i mercati del mondo molto meno bene gli esercizi di vicinato l'artigianato tutti coloro che hanno come riferimento il mercato domestico dove i consumi quindi quella che è la domanda aggregata interna è stagnante questo lo vediamo anche su tutte le slide che ora rapidamente andremo a esaminare innanzitutto la nata immortalità delle imprese come vedete in terra di siena vi è una limatura negli ultimi anni complice la crisi ma più che una limatura c'è un cambio di pelle del sistema economico meno 39 aziende nel 2018 rispetto al 17 sono piccoli numeri ma sono indicativi se funzionasse sono indicativi di un ecco di un cambio di pelle del sistema economico crescono le forme giuridiche le società più strutturate le forme giuridiche di capitali più 200 quindi in quelle meno 39 c'è un più 200 imprese di capitali decrescono e questo è anche una selezione un fenomeno di selezione naturale quelle che sono le forme giuridiche meno strutturate le società di persone e le ditte individuali quindi il sistema economico guardando anche avanti guardando a quello che ci dicevamo prima di mercati dinamici di aree del mondo dove l'economia galoppa a doppia cifra le aziende si strutturano in forme giuridiche molto più adeguate anche a una competizione più globale dove c'è questa limatura importante perdiamo meno 200 società di persone meno 188 ditte individuali quindi un sistema che sta cambiando molto qui non arriva purtroppo il segnale io dovrei tornare indietro ecco ci siamo ecco come vi dicevo c'è questo cambiamento importante di pelle per il sistema economico stanno come vi dicevo le imprese che hanno una dimensione organizzativa un'attenzione al mercato domestico sono quelle che più pagano lo scotto di questi anni di crisi le società le aziende operanti nel settore delle costruzioni che si riducono in maniera importante si riducono del 20% in provincia di Siena dal 2010 al 2018 sempre le aziende che hanno un raggio di operatività sul mercato interno si riducono come gli esercizi purtroppo i piccoli esercizi di vicinato si riducono del 6% importante è la progressione delle aziende che ruotano intorno al grande aggregato del turismo questo è un segnale è una pista di lavoro importantissima crescono del 10% l'attività di servizi di alloggio e di ristorazione l'onda lunga dello sviluppo turistico ha un effetto importante su questo tipo di attività considerate che nel 2018 dai dati che poi vedrete si supera in provincia di Siena il tetto delle 5 milioni e 300 mila presenze un robusto più 6,7% per quanto riguarda il flusso delle presenze quindi importantissimo come diceva il Presidente questa sorta di esportazione questa esportazione di prossimità diciamo col turista che viene importante ecco quindi il discorso delle costruzioni l'attività manifatturiera l'artigianato tutto quello che è la lavorazione del legno tutto quello che è il discorso del mobile quindi le piccole attività di prossimità anche qui una sofferenza importante andiamo avanti il distretto delle scienze della vita gli abbiamo voluto dedicare un'attenzione particolare perché qui veramente siamo a un punto di eccellenza straordinario a livello nazionale regionale 61 attività che danno lavoro a 2200 addetti qui veramente si può da questa grande eccellenza allargare un distretto leader veramente leader anche se considerate il 97% dell'export ai tech in provincia di Siena viene da questo tipo di attività come cambia il sistema imprenditoriale considerate in camera di commercio come saprete si registrano le imprese appena nate un'impresa nel nostro ordinamento è impresa quanto si scrive con effetti costitutivi in camera di commercio il 75% delle nuove imprese si riconduce a tre macro settori gli imprenditori stranieri l'imprenditoria femminile l'imprenditoria giovanile gli imprenditori stranieri crescono ad un ritmo incredibile negli ultimi anni si supera abbondantemente la crescita del 7% all'anno i titolari di carica sono 3.600 3.600 con un'articolazione del lavoro dentro le varie nazionalità molto singolari ci sono delle specializzazioni produttive davvero che fanno riflettere albanese e romeni sul discorso delle costruzioni tedeschi svizzeri sull'agricoltura sulle grandi proprietà i marocchini i cinesi sul commercio ancora Kossovari e Serbia Montenegro sulle costruzioni vi invito a riflettere su quello che ci dicevamo prima il calo importante del settore maturo delle costruzioni quindi qui abbiamo tanti imprenditori che tentano la strada dell'imprenditoria in proprio su settori molto maturi attenzione anche con forme giuridiche non al passo dei tempi perché la totale prevalenza di questi imprenditori ha una forma societaria di ditta individuale quindi capite bene anche nel rapporto con terzi nel rapporto con fornitori la funzione di garanzia o non di garanzia dell'eventuale creditore quindi questo è un po' il quadro un sistema veramente in cambiamento importante vado rapidissimamente imprese di giovani che apparentemente sono in calo ma solo perché si superano i 35 anni in realtà quest'anno si sono iscritte in camera di commercio 360 imprese di giovani il problema dei giovani è che non riescono ad arrivare al terzo anno il 60% delle imprese giovanili si perde entro il terzo anno da qui quindi l'importanza del credito della formazione dell'aiutare questi giovani salto l'impresa al femminile che sono 77 mila imprese arriviamo sugli aspetti occupazionali rapidissimamente io obbedisco le meri chiamo all'ordine obbedisco ogni noi facciamo come camere di commercio insieme al ministero del lavoro questa analisi eccelsior andiamo dalle aziende e dal lato dell'impresa sondiamo i fabbisogni occupazionali quindi è l'azienda che ci illustra il fabbisogno è un'analisi molto particolare con uno scartamento dello 0,8% sul risultato finale il dato che emerge da queste indagini eccelsior è che in provincia di Siena sono attese mensilmente dalle mille alle duemila assunzioni sembrano numeri importantissimi sono numeri importantissimi però si tratta di numeri per lo più ascrivibili a vorticose reiterazioni di contratti di tipo flessibile di contratti a tempo determinato il tempo indeterminato in provincia di Siena arriva malapena al 20% del totale l'80% sono forme di contratto flessibile i gruppi professionali più richiesti sono quelli connessi al turismo qui ci conferma ancora una volta il dato il 20% dei gruppi professionali più richiesti sono collegati al turismo c'è una crescita importante degli high skills quindi quei profili professionali collegati al digitale al 4.4 all'ingegneria informatica tecniche di vendita e di marketing più in generale considerate che in provincia di Siena l'85% delle assunzioni è comunque riferita a figure specialistiche quando si parla di cuochi si parla comunque di personale che deve avere il diploma di sommelier deve avere un'attitudine provata quindi comunque la specializzazione anche i mestieri come dire fra virgolette un pochino più basici la specializzazione è importante l'ultimo dato e concludo che è la grossa contraddizione del mondo del lavoro disoccupazione giovanile che rasenta il 20% le imprese che noi andiamo a contattare per l'analisi eccelsio ci dicono che hanno una difficoltà di riperimento elevatissima il 30% non riesce a trovare i profili coerenti con i propri bisogni la difficoltà di riperimento in provincia di Sena è al 34% che è un numero elevatissimo e questa difficoltà di riperimento è su due poli su funzioni super basiche considerate non si trovano i panai oggi so se lo sapete funzioni molto basiche non si trovano e funzioni ai skills quindi anche dalla digitale a tutto quanto quindi un arcobaleno di contraddizioni che ci presenta il mondo del lavoro una situazione concludo ancora molto complessa con un quadro internazionale che presenta spunti di rallentamento abbiamo dinamiche di alcuni paesi come la Germania che è un mercato importante di riferimento e rallentamento però anche degli spunti positivi in una situazione complessa degli spunti positivi collegati come dicevamo prima alle grandi eccellenze dell'agroalimentare collegata alla grande eccellenza del distretto della farmaceutica della grande eccellenza voglio enfatizzarlo del turismo sappiate che i turisti stranieri che vengono in Italia spendono ogni anno 36 miliardi il turismo in Italia è il 10% del PIL il turismo in Italia dà occupazione a 2,9 milioni di persone quindi una pista di lavoro importantissima dove Siena è per tutto quello che ci circonda il patrimonio artistico museale veramente all'avanguardia può giocare una carta straordinaria grazie concludiamo quindi questa parte di introduzione ai lavori con l'ultimo intervento del dottor Marco Forte direttore generale della fondazione Monte dei Paschi di Siena allora buonasera mi associo a tutti i ringraziamenti precedenti però fatevi ringraziare in particolare tutti coloro che hanno contribuito poi a realizzare questa giornata e in particolare da direttore della fondazione i miei diretti colleghi quindi Samantha Immacolata Federica e soprattutto Luigi e Claudio che sono stati poi i fautori di queste slide e di questo bellissimo lavoro il tempo è abbastanza stretto le tematiche di cui mi devo occupare sono legate ai temi precedenti e al tema in genere della qualità della vita quindi si parlerà di demografia terzo settore ambiente cultura e turismo cerchiamo di essere rapidi non focalizzandoci troppo sui numeri per cercare in qualche modo di esprimere i concetti fondamentali facciamo una premessa sulla qualità della vita siamo al quarto posto nelle classifiche d'Italia oggi e al ventisesimo per quanto riguarda il sole 24 ore tenete conto però che il sole 24 ore ha cambiato i criteri proprio l'anno scorso e per tali motivi c'è stato questo strappo per quanto riguarda le classifiche entriamo subito nel tema della demografia e che cosa c'è da segnalare partiamo dal fenomeno migratorio che è molto d'attualità per quanto riguarda il fenomeno interno siamo prossimi allo zero in linea sostanzialmente con la Toscana e con l'Italia i trend sono in forte abbassamento l'elemento invece che merita attenzione e che sappiamo essere di molta attualità è il tema dei migranti dall'estero e in questo senso invece c'è un forte trend in incremento su Siena superiore all'incremento che abbiamo sulla Toscana e rispetto invece all'Italia dove c'è un dato invece molto negativo non potrò mostrarvi le slide per ragioni di tempo però tenete conto che il tema ovviamente dei migranti pone tutta una serie di domande dobbiamo dire che dai dati che abbiamo nelle slide che troverete poi sul nostro sito in realtà fino ad ora il sistema socio-sanitario ma in generale sociale di accoglimento e di integrazione quindi dei fenomeni migratori ha funzionato bene in termini quindi di tasso di sicurezza del paese dove la provincia di Siena è prima in Toscana così come sul tema del disagio familiare e sociale o il tasso di abbandono scolastico fino ad ora il sistema ha retto molto molto bene per andare in qualche modo a incrementare il quadro demografico e poi arrivare alle conclusioni vediamo il tasso di natalità che invece è in forte discesa peraltro in questo caso in linea con gli andamenti sia dalla Toscana e sia per quanto riguarda l'Italia altro elemento da mettere in evidenza è stato sottolineato anche negli interventi precedenti è quello dell'invecchiamento in qualche modo della popolazione senza entrare ora nei numeri quindi diciamo sicuramente che la popolazione in particolare quando parliamo di anziani a un punto di vista demografico ci ripetiamo agli over 64 è in forte crescita vedete il dato sul 2018 il 42% di Siena contro il 40% della Toscana e il 35% dell'Italia questo che cosa significa? che si sta incrementando l'incidenza della popolazione non attiva su quella attiva in realtà la popolazione non attiva comprende anche la fascia da 0 a 14 anni ma se vedete la terza tabella è preponderante con quel 207 proprio la parte di popolazione non attiva legato appunto agli over 64 questo è giusto per darvi alcuni altri dati andremo veloci il tasso di anziani non autosufficienti per ogni 100 anziani residenti sta crescendo in questo caso in linea in tutte e tre c'è uno spaccato qui della provincia di Siena ed è in linea sostanzialmente col dato della regione toscana vedete sull'indice di invecchiamento invece come il nostro dato per quanto abbastanza direi non proprio totalmente omogeneo ma insomma le cifre vanno dal 23 al 27% per quanto riguarda la provincia di Siena nelle tre zone individuate ed è in linea il dato del senese con la toscana l'Italia si pone invece al 22 e 6 come vedete quindi il trend di invecchiamento nel nostro territorio da un punto di vista diciamo del fenomeno in linea con quanto avviene in tutta Italia però ha dei tassi di crescita nettamente superiori andrei avanti ecco questo è il dato sempre relativo agli stranieri l'abbiamo già detto prima c'è un grosso fenomeno quindi c'è un fenomeno di crescita agli stranieri sul nostro territorio e va detto anche importante guardate la seconda tabella la percentuale di stranieri nelle scuole primarie e secondarie siamo al 16% nel senese in Toscana siamo al 364 è stato in qualche modo già detto prima la gran parte degli stranieri il 50% provengono da Albania Romania e Kosovo proviamo un pochino a mettere in fila questi dati quindi che cosa abbiamo tasso di natalità in decremento invecchiamento della popolazione tutto ciò porta a una diminuzione quindi della popolazione attiva questo fenomeno è in parte compensato dai fenomeni migratori in particolare da quelli che provengono dall'estero però non basta ovviamente perché il saldo demografico naturale rimane negativo poi vedremo alla fine anche delle proiezioni fino al 2030 un altro elemento però che è stato giustamente evidenziato che tende in qualche modo seppur non entra nelle dinamiche demografiche però tende in qualche modo a rendere meno forte l'impatto rispetto a queste tendenze e la presenza delle università si parla di circa quasi 15.000 studenti fuori sede che rendono sicuramente l'ambiente in particolare qui a Siena in percezione cioè un ambiente sicuramente giovane e vitale altre considerazioni ovviamente il tasso di invecchiamento non è una cosa negativa cioè se c'è una maggiore aspettativa di vita significa che c'è una qualità della vita sicuramente superiore rispetto ad altre parti d'Italia quindi però dobbiamo vedere anche il lato negativo o quantomeno dobbiamo esaminare gli aspetti problematici che ne potrebbero nascere quindi la tenuta proprio del sistema sociale e sanitario di fronte a questi fenomeni che hanno conseguenze inevitabili anche sullo sviluppo economico è chiaro che in tutte le economie in cui la demografia scende automaticamente i tassi di crescita e l'hanno fatto vedere all'inizio anche il tema di sviluppo proprio del PIL tendono in qualche modo ad appiattirsi questo il dato del terzo settore è stato anche questo accennato c'è una grossa vitalità del terzo settore in provincia di Siena abbiamo guardate l'ultima tabella 49 associazioni ricreative ogni 100.000 abitanti e 46,6 ONU si iscritte e nel ranking delle province stiamo ad un ottimo livello come va letto questo? questo va letto anche in relazione alle considerazioni precedenti cioè il tessuto di integrazione in qualche modo sociale non si basa soltanto sull'intervento pubblico ma anche in qualche modo sull'attività del terzo settore che incide e supporta quindi il settore pubblico in questa creazione chiamiamo di rete protettiva che al momento sembrerebbe funzionare ambiente allora si è parlato prima di Siena carbon free sicuramente un aspetto importante e tutti quando si viene qua a Siena abbiamo la percezione di stare in un posto che non potete di stare ambientale a pochi diciamo simili sicuramente in Italia però poi si fanno vedere classifiche di lega ambiente e per quanto stiamo sempre messi meglio rispetto diciamo alla gran parte delle province italiane stiamo al 39esimo posto e prima di noi ci sono delle province molto più antropizzate come Firenze e Pisa ricordiamo dal punto di vista della densità abitativa noi siamo penultimi in Toscana dopo di noi c'è soltanto grossito e questo non è ovviamente un dato negativo in termini di qualità della vita è chiaro che la dispersione demografica pone invece dei problemi in termini proprio di assistenza in particolare sull'assistenza agli anziani andiamo a vedere un po' i motivi diciamo del perché forse le nostre aspettative in questa classifica di lega ambiente risultano essere in qualche modo un po' quanto meno ridotte diciamo limitate allora siamo primi per quanto riguarda le zone a traffico limitato questo è un dato bellissimo però andiamo a vedere dove siamo negli ultimi posti produzione di fiuti urbani e poi motocicli e autovetture circolanti per cento abitanti ovviamente il territorio senese è un territorio morfologicamente difficile quindi infrastrutturare il territorio senese non è una cosa semplice però rimane il fatto che la mobilità è assicurata e questo ce ne dà evidenza rispetto ad altre realtà molto dall'utilizzo di mezzi privati e questo sicuramente è un elemento di ulteriore riflessione sul tema dell'infrastrutturazione di una provincia che in ogni caso rimane fuori dalle direttrici fondamentali per quanto riguarda sia la viabilità stradale che quella ferroviare che quella aeroportuale cultura allora qui ci siamo concentrati sulla Toscana il primo grafico mostra come a livello di numero di musei istituti noi siamo inferiori soltanto a Firenze il secondo è ancora più interessante perché se mettiamo questo dato in rapporto ai residenti noi siamo due volte più ricchi di Firenze e lo stesso rispetto al dato toscano questo ci dimostra quindi fa un po' anche il pari con la parte finanziaria nel senso è una provincia ricca ricca da un punto di vista economico finanziario ricca a livello di patrimonio non parliamo di reddito parliamo di patrimonio per quanto riguarda gli aspetti della cultura e del patrimonio artistico sono già andato oltre cerchiamo un po' di accelerare però vedete anche il numero di spettacoli ogni 1000 residenti è il più alto nella regione toscana abbiamo preso la regione toscana perché poi rappresenta in qualche modo un elemento un benchmark a livello nazionale no? andiamo invece a vedere gli altri due grafici e vediamo che cosa è sul tema della cultura nonostante il patrimonio e nonostante l'alto numero di associazioni ricreative e culturali che abbiamo visto prima non c'è volume d'affari siamo una delle ultime anzi la penultima dove non c'è solo prato che significa questo? che non riusciamo a mettere a frutto il patrimonio artistico e culturale che abbiamo a disposizione quindi questo ci pone le domande a livello di programmazione di progettazione dei singoli eventi probabilmente anche di comunicazione e marketing ci pone tutta una serie di aspetti su cui dobbiamo eventualmente riflettere ecco questo è un dato sui laureati sul tema dell'educazione e un po' in riferimento a quanto è stato detto prima siamo ricchi anche sotto questo punto di vista nel senso Siena è fra le province toscane quella dove c'è la più alta incidenza di giovani laureati però la Toscana e l'Italia la Toscana rispetto ad altre regioni che abbiamo preso come comparable e la sua volta all'Italia rispetto ad alcune nazioni risulta avere un tasso bassissimo quindi siamo messi bene relativamente alla Toscana e all'Italia messi male come sistema paese ovviamente questo fa riflettere in relazione a quello che è stato detto prima sui fabbisogni delle imprese nel senso abbiamo un alto tasso di laureati però abbiamo 34 imprese su 100 che non trovano le persone di cui hanno bisogno questo è un altro elemento importante per la riflessione finiamo con i flussi turistici è stato segnalato prima che sono stati un incremento c'è qualche preoccupazione sulla tenuta dei flussi attuali qui vediamo incremento per quanto riguarda sia gli arrivi e quindi il numero di clienti che le presenze cioè le notti trascorse però il dato su cui bisogna concentrare l'attenzione quindi vediamo sia come italiani soprattutto come stranieri e questo è già stato in qualche modo detto è la permanenza media la permanenza media va a scendere qualcuno potrebbe dire che si tratta di un dato un po' che riguarda il fenomeno mondiale il turismo che aumenta la frequenza dei viaggi e diminuisce in genere la durata degli stessi però sicuramente è un tema peraltro che c'è sempre stato a Siena si è parlato spesso di turismo usa e getta di turismo di una giornata in questo caso arriviamo a due giornate e mezzo in media sicuramente è un altro elemento che difficilmente permette al turista poi di usufruire dell'enorme patrimonio culturale e artistico e degli eventi di cui abbiamo parlato prima ultimo per quanto riguarda la spaccatura del dato come vedete sono favorite le strutture extraalberghiere ma questa anche è un po' in qualche modo una caratteristica in parte del nostro territorio rispetto alle strutture alberghiere proiezione guardate il grafico a linea rossa la popolazione residente in provincesina ha già avuto dei tassi di decremento in prospettiva e vista in crescita anche se è una crescita che tenderà a un certo punto a terminare e anzi a diminuire quindi una crescita chiamiamola stanca la riflessione ovviamente non è che si può crescere all'infinito da un punto di vista demografico certo però avere saldi demografici naturali negativi non è una bella cosa certo l'economia però si deve attrezzare oltre che il sistema socio-sanitario proprio tutto il sistema economico si deve attrezzare per far fronte a questo fenomeno che possiamo provare a contrastare ma è un po' nella logica di tutti i paesi maturi da un punto di vista economico che quindi poi iniziano in qualche modo dei fenomeni demografici negativi sicuramente a Siena l'abbiamo detto prima è molto forte questa tendenza altri dati sempre sul 2030 quello che si diceva prima diceva sempre il presidente l'indice di dipendenza per anziani 42,4% cioè il rapporto tra gli over 65 e popolazione in età attiva è il 42% è atteso salire al 47,5% nel 2030 guardate l'Italia al 36% e guardate l'Unione Europea sta al 31% al 2020 grazie ancora grazie grazie ecco avete visto dati estremamente interessanti su cui ora ci accingiamo a dibattere nella tavola rotonda che sta per iniziare e che vede appunto personalità di grande rilievo sedute qui a fianco a me che adesso sto per chiamare e che rappresentano proprio le vocazioni del territorio con loro cercheremo di fare quel lavoro a cui avevo accennato all'inizio cioè mettere insieme fare comparazioni e trovare collegamenti tra i diversi settori e ve li presento e li chiamo qui vicino a me il professor Marco Cammelli professore merito di diritto amministrativo dell'Università dei Studi di Bologna benvenuto professore presidente dell'associazione Il Mulino è anche presidente della scuola dei beni e delle attività culturali e della commissione arte e cultura delle fondazioni perfetto lei ha un curriculum talmente corposo che non volevo fare la settimana perfetto bene poi avremo il dottor Rino Rappuoli che è chief scientist della GlaxoSmithKline Backscience Siena ecco benvenuto dottor Rappuoli il professor Angelo Riccoboni che è presidente della fondazione prima e professore ordinario di economia aziendale dell'Università dei Studi di Siena ecco vedete dal programma che era prevista la presenza dell'ingegner Landi che è il presidente di Questit e purtroppo l'ingegnere è stato bloccato ed è bloccato all'aeroporto di Mizza da un aereo che non parte e quindi lo verrà sostituito lo sostituirà la D di Questit che si chiama Ernesto Di Iorio benvenuti io inizierei proprio col professor Cammelli sì questo è accesso adesso glielo passate pronto ecco professore abbiamo appena sentito che Siena è seconda soltanto a Firenze no? per numero di musei mentre per la redditività delle iniziative culturali è al penultimo posto nella regione quindi una distorsione piuttosto seria su questo come intervenire come correggere? bene credo che è stato giustamente segnalata l'importanza del dato a me pare che sia si potrebbe essere banali e dire che su alcuni aspetti nell'area senese c'è stato uno sviluppo talmente sostenuto che diciamo in qualche modo diventato molto molto ricco e quindi che chiaramente pone un problema di sostenibilità lei la richiamava prima sostenibilità non è una brutta parola sostenibilità significa fare i conti con quello con le risorse e fare i conti con chi fruisce perché sostenibilità non significa soltanto genericamente avere i conti in ordine significa guardare bene chi fruisce delle iniziative e dell'attività io ho l'impressione come spesso succede nelle attività culturali dico subito lo dico al pubblico che io parlo qui con l'esperienza che ho imparato in questi anni delle fondazioni italiane quindi è un'esperienza che mi viene dai dati noi ci siamo trovati come fondazioni ha davvero un grosso problema quello cioè di cambiare la direzione con cui chi operava nelle attività culturali si rivolgeva all'esterno nel senso che in larga misura c'erano una serie di attività che guardavano i finanziatori cioè noi cioè le fondazioni prescindendo in modo qualche volta significativo dai fruitori dal pubblico o ad altri questo è un dato importante in parte c'è la naturale affezione di chi offre un prodotto culturale l'artista l'intellettuale eccetera a esprimere e a rappresentare il proprio prodotto in parte c'è il dato di una certa difficoltà a correlarsi a chi poi di queste attività fruisce quindi io non ne farei un fatto di redditività naturalmente ma certamente un fatto di direzione dello sguardo quanto ti sei chiesto chi era il tuo pubblico quanto ti sei chiesto con che linguaggio ti ponevi rispetto a chi doveva venire a un'iniziativa quanto ti sei chiesto questo rispetto invece alla gelosa fiera percezione di quello che ho in mente di quello che è la mia storia di quello che ho da offrire ecco dietro questo questo scarto fra tante forme di associazione e di offerte e uno scarso tipo di fruizione sostanzialmente temo che possa esserci anche questo questo è un dato che va riguardato questo non significa dire che apro soltanto le cose che vanno perché questo sarebbe da commercianti con tutto rispetto per i commercianti naturalmente è diverso significa dire che bisogna distinguere vi sono alcune cose che posso mettere fuori mercato qualunque sia coloro che il numero di coloro che le frequentano le visitano vanno sostenute perché sono un valore assoluto e vi sono invece delle cose su cui il discorso si fa in quanto sia sostenibile l'idea di sostenere tutto in modo indifferenziato è una cosa che non porta a nessuna parte quindi credo che sia uno sguardo noi stiamo guardando il futuro ma lo sguardo al passato sia giusto su questo aiuta è doveroso questo vale per tutti e non vale per tutte le varie attività abbiamo argomento dottor Di Iorio abbiamo visto il pil pro capite di Siena non cresce soprattutto c'è un dato abbastanza drammatico sull'occupazione giovanile sulle imprese di giovani che diminuiscono che chiudono o meglio che non resistono nel tempo quindi la rivoluzione tecnologica che noi stiamo vivendo come potrà dare il suo contributo a risolvere questi problemi allora io penso che la tecnologia da solo non basta abbiamo bisogno chiaramente di talenti di cervelli e quindi la prima cosa da fare a mio avviso è quella di collaborare il più possibile con l'università nel senso è l'università con i 15.000 studenti che ogni anno arrivano a Siena perché abbiamo per fortuna un'ottima università io sono uno di quelli che è partito da Ischia sono originario di Ischia e ho scelto Siena potevo scegliere una qualsiasi altra città ma ho scelto Siena perché prima di me altri compaesani avevano scelto Siena e ne hanno parlato bene quindi io sono venuto a studiare a Siena mi sono laureato qui ho fatto un dottorato di ricerca qui un assegno di ricerca ho fondato l'azienda e oggi in Questit abbiamo 22 persone che lavorano con noi persone che come me vengono da tutte le parti d'Italia quindi ecco secondo me è il primo elemento sì la tecnologia ma abbiamo bisogno di talenti affinché non siamo affinché Siena non sia in qualche modo a inseguire la rivoluzione tecnologica ma sia protagonista e per essere protagonista si parte dalla formazione quindi questo è uno dei motivi per cui pochi mesi fa eravamo a San Nicolò a istituire il primo laboratorio congiunto anzi in realtà il secondo che fa Questit il SciLab al fine di creare una maggiore sintonia e interconnessione tra imprese impresa e azienda perché una cosa fondamentale è formazione di altissimo livello siamo tra quelle 34 aziende su 100 che non trova purtroppo gli skill che gli servono quindi cosa si fa? aspettiamo? no interagiamo con le istituzioni interagiamo con l'università e creiamo gli skill che ci occorrono quindi il SciLab è secondo me uno di questi primi primi passi che servono per riportare in qualche modo gli skill le competenze al centro della rivoluzione tecnologica chiaramente bisogna avere una visione di mercato una capacità di creare prodotti e portarli in tutto il mondo grazie al fatto che in qualche modo sono 12 anni che Conquestit che nasce come spin off dell'università di Siena abbiamo fatto ricerca nei laboratori del professor Marco Gori che è qui con noi e poi abbiamo portato sul mercato questo know-how acquisito all'università cercando poi di creare valore intorno a questo anno dopo anno abbiamo creato un asset tecnologico enorme che probabilmente non eravamo nemmeno in grado dalla nostra Siena di trasferirlo in tutto il mondo però siamo riusciti a fare una cosa abbiamo portato qui a Siena abbiamo riportato qui a Siena l'ingegnere Marco Landi che come sappiamo è stato presidente di Eppol oltre che è presidente in Texas Instruments ha visto qualcosa di importante in Questit a livello tecnologico ma soprattutto a livello di persone talenti che potevano dire qualcosa e ora Marco Landi ci sta dando la possibilità di andare in tutto il mondo in questo momento le nostre tecnologie vengono vendute in ben 22 paesi nel mondo in pochissimo tempo in appena due anni chiaramente Marco Landi purtroppo non è potuto essere tra di noi è una persona dinamicissima non gli basta non gli bastano 22 paesi non gli basta quello che stiamo facendo con la nostra Questit vuole che in qualche modo si vada oltre e vi dico una cosa un po' in anteprima c'è un grande gruppo industriale che sta appuntato agli occhi su Questit un gruppo da quasi un miliardo di fatturato e che a breve avremo notizie ora non posso dire di più ma investirà in Questit nell'ottica ulteriormente di creare valore sul territorio la tecnologia può aiutare moltissimo anche a migliorare i processi aziendali in quali settori secondo lei in questo momento in particolare l'intelligenza artificiale che è il settore in cui ci muoviamo noi è abbastanza trasversale si può applicare un po' in tutte le parti noi vedevamo per esempio il turismo per la Toscana è uno degli asset principali e anche lì l'intelligenza artificiale può diventare un elemento di enfatizzazione del nostro patrimonio turistico che abbiamo ma può andare alla sanità ma a qualsiasi altra impresa quindi in questo momento la tecnologia può diventare un nuovo asset in particolare l'intelligenza artificiale e la cosa ripeto molto positiva che non siamo secondi a nessuno nel mondo su questo argomento grazie all'università ai laboratori alla ricerca di altissima qualità che viene quotidianamente attestata da numerose pubblicazioni scientifiche che vengono pubblicate in tutto il mondo anche in questo non siamo secondi a nessuno la cosa importante è provare a fare quello che già in parte stiamo facendo ma sarebbe bello riuscirlo a fare tutti insieme con tutte le istituzioni cioè fare sistema intorno a questo asset intorno alla ricerca e all'innovazione in maniera tale che tutto in qualche modo poi ci porti verso a esportare questa capacità di fare innovazione grazie ecco una domanda adesso al dottor Rappuoli abbiamo visto come con oltre 2000 addetti Siena è un importante centro di ricerca e di produzione di vaccini immagino che la sfida sia potenziare e mantenere questa ricerca qui a Siena oltre che poi allargarsi ad altri settori che prospettive ci sono oltre che ovviamente mantenere e potenziare e anche mettere questa risorsa di innovazione di ricerca a disposizione del territorio e far sì che diventi un punto diciamo che possa fare sistema insieme a tante altre iniziative e che possa aiutare in qualche modo il territorio a crescere in questa area è ovvio che noi siamo una realtà interessante perché mentre in questi giorni viviamo un momento in cui tante aziende abbandonano l'Italia noi siamo una realtà in cui aziende straniere vengono a investire da noi e investire da noi per venire qua vuol dire che qui ci sono delle capacità c'è dell'innovazione ci sono dei talenti ci sono delle cose che riescono ad attrarre le investimenti in questa area e è molto importante che noi riusciamo a usare questo non solo per crescere noi come azienda di vaccini ma per far crescere in qualche modo il territorio e personalmente sono molto molto grado molto grado la fondazione Carlo Rossi per aver fatto questa cosa perché ovviamente oggi gli individui non riescono più a crescere insieme a fare qualcosa abbiamo bisogno di fare sistema fare sistema vuol dire avere convegni come questo guardarci in faccia vedere quali sono i nostri dati fare un piano strategico della città e dire dove vogliamo andare nel 2030 ma anche più in là e poi una volta ci siamo messi d'accordo fare il sistema e essenzialmente remare tutti nella stessa direzione e com'è che noi possiamo cercare di fare questo noi abbiamo fatto un siamo Aldo Tagliabue che sta là da qualche parte nel 2001 un convegno che era intitolato costruiamo il futuro questo lo vedo un po' una continuazione di quello perché in quel momento abbiamo messo giù l'idea di quello che potevano essere le scienze della vita a Siena in cui a quel tempo eravamo noi come che facevamo ricerche e sviluppo nei bacini che avevamo dei prodotti in cui in quel settore lì eravamo all'avanguardia nel mondo e abbiamo capito che questo era un settore che poteva crescere e quindi abbiamo pensato quello che poi è diventato è stato un po' in qualche modo il battesimo di quello che è diventata la Toscana Life Sciences che a quel tempo o TLS anche a quel tempo non esisteva e nel frattempo è stata costruita già stavo detto prima è una realtà dal mio punto di vista bellissima che ha una trentina di aziende più di 350 persone che ci lavorano e spero ce ne siano molti di più e è diventato un po' un posto dove chi ha una bella idea nel settore delle scienze della vita in Italia magari anche qualche italiano che sta fuori d'Italia dice ma se vado lì magari ho più probabilità di avere successo e quindi viene qua e quindi Toscana Life Sciences la trovo una realtà bellissima che è nata intorno a si potrebbe chiamare in qualche modo forse presuntuoso uno spin off di avere una realtà di ricerca nel settore dei vaccini però questo secondo me non basta bisogna anche fare sistema come città ma anche come regione ovviamente a Siena abbiamo una ricchezza grandissima il fatto di avere l'università come parte di questo sistema ma a Toscana Life Sciences siamo anche punti di riferimento per la Toscana globale nel settore della scienza della vita la Toscana globale si presenta come un settore più forte abbiamo tre università invece di una tre università tutte di grande rispetto abbiamo molte più aziende farmaceutiche che fanno anche questa ricerca e sviluppo quindi se ci presentiamo come sistema a Toscana abbiamo un impatto nel mondo dove esportiamo i nostri prodotti e da dove importiamo i talenti più forte che se ci presentiamo come individui quindi diciamo io vedo la giornata di oggi come un momento in cui cominciamo a fare un percorso per mostrare questo per rendere più forte questo sistema e renderlo più visibile nel mondo e l'ultima cosa che volevo dire si riferisce ai talenti che dicevi che stavo guardando durante la presentazione che stiamo stiamo crescendo nel portare delle persone non italiane qui sul territorio ma la maggior parte di questo venivano da Kosovo Romania e altre parti Albania che vanno benissimo c'è niente contro di questo ma l'innovazione si fa importando talenti che sono ben educati che abbiano la possibilità di costruire e di fare le cose è un problema che noi come ditta di vaccini ci siamo posti da tempo perché dovendo coprire tutto dall'inizio della ricerca più innovativa alla produzione alla distribuzione nel mondo abbiamo bisogno di tantissime persone brave di qualità di livello mondiale e non tutte le troviamo qui e una cosa che abbiamo costruito insieme alla città in qualche modo è quello di mettere su una scuola internazionale in cui i talenti che riusciamo a portare da fuori che vengono qua possono mandare i loro figli a una scuola internazionale altrimenti prima non venivano oppure dovevamo tenere su Firenze quindi è una diciamo la città le imprese le università le strutture pubbliche devono fare sistema andare in questa direzione grazie grazie professor Angelo Ricca Boni ecco mi viene di porre una domanda soprattutto dopo le parole del dottor Diorio ingegner Diorio vorrei sapere qual è il trend dei laureati a Siena cioè quanti si laureano a Siena abbiamo visto che gli stranieri spesso restano ma gli studenti italiani restano a Siena dopo la laurea innanzitutto vorrei dire che l'Università di Siena come detto prima il rettore ricordava che abbiamo molti studenti che vengono da fuori Siena abbiamo 50% oltre fuori regione che è un dato primo a livello nazionale secondo vorrei ricordare che l'Università di Siena nelle lauree magistrali ha il più alto numero di studenti stranieri che vengono addirittura fuori Italia rispetto a tutte le altre onesità eccetto ingegneria e politecnici quindi c'è una grande attrattività quanti se ne laureano 2000 il rettore lo sa meglio di me 2000 all'anno e credo che sia una cifra importante poi è chiaro che non possono esserci offerte per tutti ma questo fa parte credo del gioco cioè noi dobbiamo attirare laureati da fuori non è che dobbiamo pensare che ci siano delle specie di gallerie che uno comincia in un posto si laurea lì e poi lavora lì questo sarebbe un po' fonte di problemi quindi il fatto che ci sia una circolazione di cervelli questo è estremamente importante abbiamo visto come turismo e telegastronomia per Siena e per tutta la provincia siano veramente degli asset strategici che peraltro danno grandi soddisfazioni economiche ed occupazionali però forse è il momento di rilanciare anche quelli nel senso io penso per esempio al settore dolciario che qui a Siena ha vissuto una crisi grave abbiamo visto che c'è mancanza di personale specializzato e insomma i problemi non mancano anche in questi due comparti che in realtà vanno benissimo come intervenire su questo? Io parlerei un pochino più ampiamente del settore appunto del food considerando due macro tendenze che credo siano fondamentali e Siena c'è benissimo in queste grandi tendenze la prima è che c'è un cambiamento epocale in atto verso la qualità io questa mattina ero a un incontro che la Silva il segretario generale della FAO ha organizzato con una quindicina di rappresentanti di enti di tutto il mondo perché sta partendo un convegno su il futuro del cibo alla FAO e ha detto una cosa che mi ha molto colpito ha detto forse abbiamo sbagliato tutto noi ci siamo focalizzati in questi anni sulla quantità cioè produrre più cibo persino nella cooperazione sviluppo si sta pensando che bisogna andare verso la qualità cioè dobbiamo fare in modo che le persone abbiano un cibo più salutare più salubre ma non perché e non soltanto per il gusto ma perché c'è questa epidemia di obesità di sovrapeso in tutto il mondo che sta mettendo a rischio i sistemi sociali i sistemi sanitari questa è una grande crisi a livello globale quindi questo grande cambiamento verso la qualità è verso il riconoscimento del valore di prodotti che sono i prodotti che caratterizzano questa provincia quindi questo è il primo megatrend dove noi siamo perfettamente allineati il secondo megatrend è quello di sviluppo sostenibile cioè lasciamo perdere qualche giorno di freddo che ci ha fatto credere che era tutto una finzione questa grande evoluzione verso il rispetto dei valori della sostenibilità sociale e ambientale Siena è una icona globale della sostenibilità per il patrimonio culturale ambientale sociale per Siena carbon free per mille altre cose e questo dal punto di vista del marketing dal punto di vista della valorizzazione è un'altra grandissima linea di tendenza dove noi possiamo fare molto quindi questo è diciamo il trend Siena la provincia di Siena ha delle caratteristiche interessanti certamente i numeri sono ancora abbastanza limitati abbiamo visto prima abbiamo un grande fratello che è il vino il food eccetto il vino conta il 5% del vino il food però conta il valore di Toscana per esempio Siena il 20% se mettiamo Siena con Arezzo e Grossetto è 75% della Toscana quindi cosa vuol dire? vuol dire che c'è una grande piattaforma che va da Arezzo fino al Grossetto e vede Siena al centro che è una piattaforma che dal punto di vista delle produzioni agroalimentari può dire delle cose molto interessanti quindi io credo che lì ci sia una grande potenzialità un limite se vissano i dati sulle aziende piccolissime il 94,5% diceva era sotto le 10 unità ma addirittura 64 mi sembra era una unità quindi è chiaro che c'è un problema di dimensione perché senza dimensioni è difficile poter sfruttare queste potenzialità come fare ne parliamo adesso dopo? parla adesso? lo dico ora come fare lei si ricorda sicuramente il dottor Sascafuri che c'era qualcuno che diceva che i manicomi sono pieni di persone che vogliono salvare o risanare le ferrovie no? si diceva questo una volta poi le ferrovie le abbiamo risanate qualcuno le ha risanate i manicomi sono pieni di persone che pensano o sperano o auspicano di aumentare le dimensioni delle imprese io da quando avevo i pantaloncini corti mi ricordo che c'erano i dibattiti allora ci riusciremo ci riusciranno non lo so però visto che è molto difficile fare questo i nostri amici da camera di commercio lo sanno bene perché più volte ci hanno provato Pasconi e Salvini lo sanno benissimo non possiamo far questo bisogna trovare dei surrogati dobbiamo fare in modo che in qualche modo si possa coniugare la piccola dimensione con la qualità e la redditività perché l'altra cosa che sta emergendo adesso è il vero globale e finalmente ci siamo accorti tutti che chi vive in campagna ha diritto anche della redditività minima questa è una cosa strana ma fino a ieri non si parlava mai questa mattina in questo incontro si parlava anche di redditività per la prima volta si parla di queste cose e quindi dobbiamo fare in modo che ci sia la capacità di conciliare questi tre aspetti sicuramente l'innovazione ci può dare moltissimo l'innovazione tecnologica che sicuramente è un punto fondamentale ma anche l'innovazione organizzativa e sociale cioè dobbiamo fare delle cose in modo nuovo cioè dobbiamo veramente applicare qualcuno ha accennato il concetto di open innovation cioè mettere insieme gli attori con dei modi di fare diversi nuovi con delle relazioni innovative perché altrimenti non ce la faremo mai ecco perché dobbiamo anche pensare di collaborare a Reza Siena e Grossetto dobbiamo collaborare con scienza della vita scienza della vita è molto vicino ai temi del food dobbiamo fare in modo che si possa lavorare insieme dobbiamo far sì che ci siano veramente dei meccanismi di relazione meccanismi anche di co-working come si dice adesso totalmente nuovi non sarà facile Siena ha questo grande vantaggio ha due ottime università ci sono laboratori dipartimenti c'è Santa Chiara Lab ci sono tante cose che possono aiutare e si sta facendo già molto con la fondazione stiamo già facendo delle cose interessanti con Quali Vita quindi ci sono delle grandi opportunità però bisogna scusatemi perché sono tutti dicono sempre anche qui da tanti anni bisogna far sistema diciamolo tra l'altro consentitemi in tema di SDGs secondo lei perché ancora non si fa sistema infatti a questo punto bisogna far sistema per far sistema bisogna tre cose primo si condivida una visione cioè si dica questa è la visione e non che ogni giorno ne parte una secondo occorre che ci sia un commitment di lungo termine impegno terzo deve essere prioritario non puoi avere 15 priorità e avere pochissime priorità e su quello batti forte questo è quello che credo vada fatto grazie grazie a lei ecco professor Camelli ritorniamo un attimo sulla questione imprese che chiudono in particolare le imprese giovanili a me ha colpito enormemente il dato sulle imprese artigiane cioè come è possibile che in una città come Siena che in Toscana le imprese artigianali siano in calo evidentemente c'è un problema di ricambio generazionale posso immaginare un problema molto grave questo cioè i nostri giovani invece di imparare l'arte del fare del fare di alta qualità italiana quello di noi cui noi siamo primi nel mondo la nostra capacità di fare di ideare rischiano non so di finire tutti impiegati da McDonald's oppure da che so da Ikea per esempio questo è quando si parla di cultura si parla dei grandi temi e la cultura è il modo per riannodare i fili che si sono spezzati quindi sono perfettamente d'accordo anche sulle cose che venivano dette l'interdipendenza facciamo sistema lavoriamo insieme sono aspettative spesso manifestazioni di desiderio razionali ma siamo tutti consapevoli dell'enorme difficoltà a muoversi per esempio qui gioco la parte del giurista noi abbiamo un sistema istituzionale che è fatto esattamente per il contrario cioè il sistema istituzionale amministrativo eccetera è fatto a canne d'organo in verticale dal centro la periferia e viceversa in modo da separare un settore dall'altro e il sistema del reclutamento il sistema della responsabilità il sistema dei controlli è un sistema diciamo di tipo dissociante sostanzialmente tanto è vero che quando poi si dice cooperare facciamo insieme la prima domanda quindi stiamo attenti poi quando ce la prendiamo contro le burocrazie che hanno mille colpi intendiamoci come tutti però qualche ragione pure ce l'hanno nel senso che la domanda di dire scusate ma chi risponde di questo cooperiamo facciamo insieme io mi occupo di questo tu ti occupi di quello e lui di quest'altro la responsabilità cos'è? la somma ma se io non funziono perché tu ti sei fermato rispondi tu o rispondo io è un problema come dire tutt'altro che è astratto e teorico allora primo problema quando parliamo di cultura non parliamo soltanto di beni culturali non parliamo soltanto di evidenze culturali quando parliamo di cultura parliamo anche di cultura in una parte molto più profonda molto più ampia che è il punto su cui secondo me si giocano queste cose che è esattamente il recupero del senso delle cose cioè il recupero perché solo così riesco a capire quello che ho davanti riesco a riconoscere ciò che oggi c'è e prima non c'era le nuove risorse quanta gente sta a piangere perché le risorse di ieri non ci sono più oggi giusto ma ti sei guardato intorno a vedere quali sono le risorse che oggi ci sono e prima non c'erano buona domanda sono convinto che per tre quarti delle persone e anche degli amministratori se si ponesse questa domanda non tutti sarebbero in grado di rispondere eppure ci sono imperi costruiti in pochi anni su risorse che non c'erano quindi voglio dire il tema è questa la cultura la cultura del capire che che l'immigrazione dei vari livelli in una in una realtà come quella di Siena è una cosa che se gestita diventa essenziale è evidente poi ci si può giocare in mille modi ma è evidente allora vengo alla risposta solo per dire che quindi quello che è stato detto da voi che condivido quadro sguardo lungo capire cosa c'è oggi e non c'era ieri e viceversa scegliere scegliere è faticosissimo perché chiunque di noi sa che scegliere vuol dire che chi è scelto ritiene di meritarselo e come certo sono stato scelto io ma io ho un bel progetto una cosa brava tutti gli altri sono discriminati ingiustamente perché le macchie le cose e tutto quanto ti hanno giocato contro la scelta deve essere giustificata deve essere motivata deve essere spiegata ma la scelta è necessaria Siena si trova evidentemente di fronte delle scelte da fare rispetto al passato che ne motivi mai deve fare e quindi quando si dice guardare avanti significa che fare e contemplare ecco perché voglio complimentarmi particolarmente con il presidente Rossi e con le istituzioni che hanno guardato hanno detto guardiamo avanti nessuno vuole cancellare il passato o i problemi che ci sono stati ma la vita è andare avanti la vita è guardare le cose che ci sono quindi vengo alle imprese giovanili come fondazioni un gruppo di 20 fondazioni di origine bancaria italiana abbiamo da quasi 10 anni un progetto che si chiama Funder35 cioè un fondo creato di 2 milioni e mezzo quasi 3 milioni creato per le imprese di ragazzi sotto i 35 anni siamo partiti 10 anni fa quindi c'è una certa esperienza che cosa abbiamo imparato da questo per rispondere alla domanda poi uno dovrà adattare la prima cosa è questi ragazzi debbono capire che sono loro ad avere il volante in mano sulla cosa e che il volante in mano della loro impresa della loro attività non è quello che orgogliosamente pensano di saper fare meglio degli altri questo è un dato essenziale ma non basta perché devi chiederti la gente intorno di che cosa ha bisogno cosa sta cercando dove ti collochi quali altre persone hai mi chiedo scusa a voi perché sono cose banali per chi opera su queste cose ma per l'ambiente culturale perché nell'ambiente culturale è un ambiente fatto di persone che hanno il cielo stellato sopra di sé cielo stellato sotto un pubblico che se c'è applaude a volte non c'è ma se c'è applaude e intorno non c'è nulla non deve esserci nulla come il professor universitario non si diceva il massimo dell'amico il collega nella vecchia precedetta del professor universitario quindi il tema è quello di uscire da questa autoreferenzialità sapere che hai il volante in mano chiederti a chi ti rivolgi e poi per noi diventa un problema di strumenti abbiamo imparato questo meno quattrini possibile meglio era noi avevamo tre milioni quindi una cosa significativa da erogare che cosa abbiamo imparato nel corso di dieci anni lo dico perché può servire che i quattrini certo che sono importanti ma intanto c'è sempre l'ambiguità ho i quattrini quindi vado l'incentivo è anche un terribile meccanismo che ti fa andare su un sentiero in cui magari non andresti se non ci fosse quell'incentivo quindi l'incentivo è a dubbla e fassa quindi bisogna stare molto attenti su questo mentre quello che serve veramente che ha fatto ha fatto almeno per l'analisi che abbiamo fatto è quello che giustifica i successi che ci sono stati sono tutto il sistema degli incentivi e tutto il sistema dei servizi sotto noi a questi ragazzi li aiutiamo non a fare l'attività questo ci pensano loro li aiutiamo a rafforzarsi sul piano dell'impresa individuale li aiutiamo a imparare il crowdfunding non serve soltanto per avere qualche lira in più rispetto a quello che potrei avere come sistema di cofinanziamento il crowdfunding serve perché io vedo se c'è una risposta positiva a quello che sto proponendo in un certo senso mi collego non dico al mercato ma almeno ho un feedback ho un riscontro un ritorno in cuffia non sono da solo soddisfo un bisogno allora incentivi servizi ogni piccola impresa di giovani ha immediatamente due problemi che non è neanche solo certo c'è il credito abbiamo fatto un accordo con le cose mi taccio subito ma per esempio hanno bisogno di aiuto sul piano fiscale fondamentale quindi allora il servizio di sostegno fiscale serio e fatto bene permette a queste imprese di camminare altrimenti fiscale e contrattuale fiscale e contrattuale poi c'è tutta la parte di forma giuridica questo è un primo dato l'altro è quello comunicativo è incredibile come la comunicazione siamo una società della comunicazione e vi sono interi settori a cominciare dalla pubblica amministrazione che la comunicazione sono praticamente ancora le gazzette ufficiali è evidente che a questo punto poi la gente non si capisce ecco se si lavora su questo si possono avere dei risultati soprattutto si sforza la testa invece di guardare chi finanzia guarda chi fluisce e questo è cambia la prospettiva e cambia le cose grazie professore ecco ingegner di Iorio volevo un attimo ritornare appunto sulle competenze digitali dal versante degli investimenti cioè che sono importanti perché senza investimenti naturalmente non parte nulla quindi come investire sulle competenze digitali però in modo organico con un approccio in cui ci siano tutti gli elementi necessari a favorire uno sviluppo sostenibile oggi tutte le aziende hanno bisogno in qualche modo di avere una strategia digitale fondamentalmente non mancano chiaramente strumenti tecnologie probabilmente manca più una cultura del digitale all'interno delle imprese a maggior ragione che le imprese di cui stiamo parlando sul nostro territorio non sono tendenzialmente imprese giovani dove semmai già c'è una predisposizione al digitale e anche una cultura perché semmai le imprese di giovani sono fatte da laureati persone che in qualche modo il digitale lo hanno vissuto e lo hanno anche utilizzato si sono anche formati sul digitale immagino invece le aziende del nostro territorio quelle storiche quelle semmai in cui c'è anche un certo giro d'affari e una certa economia tutto intorno che non sono purtroppo predisposti al digitale perché non l'hanno mai fatto non la sentono probabilmente ancora un'esigenza ma come sappiamo più passa il tempo e più che esigenza diventa un obbligo diciamo avere una strategia digitale è un po' lo diceva anche prima il professore abbiamo la necessità di innovare le nostre imprese anche per poter uscire in qualche modo dai confini del nostro territorio si possono l'esportazione dei nostri prodotti anche quelli manufatturieri quelli che vengono prodotti artigianalmente nel nostro territorio devono avere una strategia digitale e voglio raccontare diciamo un piccolo caso che abbiamo realizzato in Puglia questa volta dove abbiamo unito tradizione e innovazione parlavamo prima del vino dove la Toscana non ha niente da invidiare a nessuno nel mondo e noi in Puglia abbiamo fatto un progetto molto interessante che è arrivato ha avuto una risonanza nazionale dove abbiamo permesso a questa casa produttrice di vini di far parlare il vino cosa significa far parlare il vino cioè unire alla bottiglia un QR code sull'etichetta che banalmente scansionando questo QR code si arrivava su un assistente virtuale capace di raccontare di rispondere a domande relative a quel vino specifico che in quel momento a tavola le persone stavano bevendo parlare della blockchain che potrebbe avere sviluppi interessantissimi nel agricolo tecnologia e il nostro business tradizionale quello agroalimentare e così via fuse insieme possono sicuramente creare innovazione e rinnovare rendere nuovo il modo di fare business con le risorse che il nostro territorio per fortuna ci concede fondamentalmente la sperimentazione in atto del 5G può dare una spinta ulteriore? assolutamente il 5G è un'altra grande opportunità e l'infrastruttura di cui abbiamo bisogno potenziale quella significa poter dare tutta una serie di servizi aggiuntivi digitali che in qualche modo però ecco la tecnologia da sola non basta ci servono i talenti e ci serve una strategia digitale perché altrimenti il business non basta mettere insieme un po' di tecnologia e qualcosa bisogna avere una la connettività bassa purtroppo non siamo un dato che ho visto alla connettività bassa non siamo un'eccellenza da questo punto di vista questo è un problema questo è un problema sì sì assolutamente anche su questo bisognerà che Siena si attrezzi si adegui rapidamente grazie ecco dottor Rappuoli tornando a lei accennava prima queste possibili sinergie tra le scienze della vita e altri settori l'agroalimentare per esempio accennava prima in che modo si potrebbe sviluppare questa sinergia che sarebbe molto interessante ma chiaramente quello che è agroalimentare in genere si basa su cose viventi quindi le tecnologie di base sono le stesse le conoscenze sono le stesse si tratta di usarle per fare cose un po' diverse il fatto che abbiamo le conoscenze nel settore farmaceutico che abbiamo gente che fa ricerca gente che conosce tutte quelle tecnologie la genomica l'ingegneria genetica tutte queste cose qua le stesse tecnologie possono essere applicate da altre parti uno dei modelli che si tanto va di moda è quello che open innovation e collision model dove si prendono persone che fanno essenzialmente cose completamente diverse però si basano su stesse tecnologie le mette insieme e vengono fuori idee nuove quindi secondo me costruire accanto a quello che esiste mettendo altre persone che fanno cose leggermente diverse si apre un dialogo da cui possono possono soffrire tutti quindi la cosa è molto possibile basta mettere insieme noi abbiamo diversi esempi non so a Toscana Life Sciences è venuta un'azienda che fa robotica perché è venuta qua perché voleva costruire una cosa per infialare dei farmaci e voleva parlare con qualcuno che sapesse di farmaci essenzialmente quindi questo mettere insieme gruppi che fanno cose diverse è molto importante qui a Siena in questi giorni si parlava di un'altra azienda locale chiamata Philogen che è locale che essenzialmente fa parte anche di questo sistema è riuscita a fare un finanziamento tutto italiano di una settantina di milioni di dollari che non è uno scherzo è il più grande finanziamento italiano tutte queste cose qui si possono mettere insieme c'è gente che sa di finanza c'è gente che sa di impresa c'è gente che sa fare il tecnico genomico c'è gente che fa questo se le mettiamo tutte insieme tutti diventano più ricchi possono approfittare delle esperienze degli altri e costruire cose nuove anzi spesso l'innovazione vera succede quando persone che non necessariamente fanno la stessa cosa si mettono insieme e vengono fuori delle idee che nessuno degli individui prima aveva pensato del fare rete di essere insieme a ragionare sui problemi e poi mi era venuta in mente un'altra cosa prima quando si diceva ma tutti questi mestieri spariscono cose eccetera mi è venuta in mente una cosa più o meno personale io sono entrato a lavorare nell'azienda che adesso è GSK che era sclavo negli anni 80 e siamo cresciuti tanto nel frattempo ma io quando sono entrato sclavo faceva una serie di prodotti ce ne abbiamo zero di quelli lì non ce n'è più uno di quelli lì se fossimo rimasti a fare i prodotti che facevamo allora saremmo scomparsi tutto quello che abbiamo abbiamo usato l'esperienza che avevamo per fare ricerca per prodotti del futuro adesso abbiamo prodotti completamente nuovi che fanno il loro fatturato fanno le cose eccetera però sono tutti i prodotti che abbiamo sviluppato negli ultimi 10 15 anni i prodotti che abbiamo ereditato non esistono più e così penso che questo sia il modo in cui dobbiamo evolvere non possiamo stare a piangerci dietro perché i vecchi mestieri che stanno scomparendo li dobbiamo evolvere nella realtà moderna grazie ecco passeremo la parola ecco al professor Ricca Boni professore le volevo chiedere parlando anche di turismo e no gastronomia ma non solo di questi due settori è il caso di arrivare alla formazione di un nuovo management cioè di un ricambio del management è necessario secondo lei si può fare come è stato detto già dagli amici qui sul palco che il tema delle risorse umane è fondamentale cioè sia per l'intelligenza artificiale che scienza della vita ma anche per la valorizzazione del patrimonio culturale occorrono competenze usiamo questo termine un po' banale manager figure professionali che sono in grado di in qualche modo lanciare anche sui mercati internazionali certi prodotti che sanno insomma vedere con una prospettiva diversa quindi la formazione è fondamentale allora sull'agri-food per esempio presso l'Università di Siena c'è l'unica laura professionalizzante in Italia sul tema proprio dell'agribusiness cioè è stata lanciata c'è una novità che ogni università può avere una laura professionalizzante su un tema specifico l'Università di Siena ha scelto l'agribusiness quindi questo vuol dire che verranno formate delle persone che sono molto focalizzate su questo quindi è chiaro che il tema dell'educazione è un tema centrale così come è un tema centrale anche quello di ripeto perché credo che sia appunto fondamentale di rafforzare gli elementi identitari cioè quando lei dice della gastronomia anche cioè è tutto legato cioè la grande forza del food che integra in qualche modo è connesso con tutte le dimensioni con la dimensione tecnologica con la dimensione delle scienze della vita ambientale con la dimensione letteraria umanistica culturale quindi ha questa caratteristica di essere in qualche modo connesso con tutte le altre trasversali il turismo cioè io insisto molto sul discorso della reddittività dell'agricoltura come ha detto prima Franceschialdi perché se non è reddittizio lavoro nei campi chi tiene le colline come se fossero pettinate perfette che servono poi al turismo servono poi all'enogastronomia servono poi ai poeti servono poi ai pittori servono poi a le strade bianche che è questa grande bellissima cosa del ciclismo quindi è chiaro che sono tutte connesse ecco perché anche rafforzare certi elementi identitari è importante faccio un piccolo promo pubblicitario e infatti faremo il 4-5 ottobre qui in questo spazio proprio un'iniziativa che si chiamerà Agri Food Next con il comune di Siena che pone al centro la propria strategia proprio l'agri food insieme a QualiVita che è un'istituzione locale molto attenta ai temi del cibo di qualità proprio per porsi al centro del dibattito che c'è e ci sarà su il ruolo della persona che lavora in campagna del business del food pensiamo al tema dei birrifici che è un tema nuovo che però sta portando molte professionalità e anche molta occupazione quindi sono tantissime cose che stanno in qualche modo emergendo Siena può diventare veramente la capitale almeno nazionale del cibo in una prospettiva di sostenibilità credo che questa sia una grandissima cosa che non è difficile raggiungere se si in qualche modo rispettano quei criteri priorità impegno nel lungo termine e vedere come come visione comune altrimenti nessun obiettivo oggi più che mai viene raggiunto abbiamo visto poi dai dati di prima come il turismo sostenibile il cicloturismo le strade bianche sia un segmento su cui puntare in futuro che attira anche molto i turisti stranieri ecco su questo si può lavorare si deve lavorare forse ancora di più quello è stato un esempio bellissimo di un'iniziativa che è partita in maniera anche abbastanza così dal basso è diventato un evento globale cioè è diventato un evento che attira i più importanti corridori quando c'è la gara professionistica così come tantissimi appassionati quindi è un esempio della capacità di attrazione di queste terre cioè la capacità di attrazione enorme qualcuno ha usato il brand non è tanto forse corretto dire il brand sia una brand però c'è veramente una c'era questo amantese che qualche anno fa faceva il suo lavoro in una cosa tipo questa e disse una cosa e mi colpì perché disse Siena anche come nome è un nome che attrae cioè c'è una una qualche cosa che attira proprio anche nel nome oltre che nella città nella sua provincia nella bellezza è un elemento che oggi si vende da solo si direbbe si potrebbe dire che si vende da sola esatto però dobbiamo provare a valorizzarlo a vendere magari un termine esatto ma un termine non bello ma insomma valorizzato per uno sviluppo economico che si basi su questi aspetti lavorando insieme volevo dire solamente questo negli SDGs che lei sicuramente conosce l'agenda 2030 il numero 17 che è un numero abbastanza importante in questa città il numero 17 è l'SDG che fa riferimento a lavorare insieme le partnership allora chiamatelo co-working chiamatelo programmazione congiunta chiamatelo partenariati chiamatelo come volete però sono tutti d'accordo a livello globale che le grandi sfide che abbiamo davanti li potremo affrontare solo lavorando insieme mi sembra che ci sono le condizioni qui per farlo il professore voleva aggiungere qualcosa volevo chiedere anche ai colleghi e al pubblico porre questo d'accordissimo siamo tutti d'accordo su questo però traiamo un'implicazione non banale perché dietro il discorso è stato ripetuto più volte sguardo lungo il mio collega ha detto priorità attenzione priorità 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 significa scegliere e scegliere è abbiamo già detti è una cosa terribilmente costosa dal punto di vista del consenso eccetera allora o ci inchiodiamo sul ilai di un potere che non riesce a decidere quella di cui poi tutti siamo in qualche modo coinvolti nelle non decisioni del potere perché ognuno di noi quando la piccola cosa che conosce viene toccata dice ma come ma questa no merita allora ci rendiamo conto che questo dato del fare sistema presuppone anche un'intelaiatura per così dire intorno di tipo non solo istituzionale politico ma di cultura civica su cui abbiamo soltanto da pedalare altro che strade bianche tutti tutti sulle strade bianche a pedalare bravo professore ecco è solo questo quindi dico io sono d'accordo si gioca su questo le nostre cose allora certamente abbiamo bisogno di punti di riferimento più possibile perché non sia arbitraria non sia discreta allora il piano paesaggistico Siena è in Toscana la Toscana è una delle tre regioni che hanno approvato il piano paesaggistico con una difficoltà notevole ma anche una struttura lo dico da Emiliano e dall'esterno eccetera particolarmente attrezzata devo dire io non so a che punto è adesso ma certamente la cosa è stata fatta con molta molta attenzione e un certo grado di sofisticazione allora se si va su questa strada scegliere significa avere anche i parametri ma i parametri significa avere anche le aree e le scelte di questo tipo e allora le cose si collegano riesco a avere queste cose se recupero questi diversi aspetti altrimenti le istituzioni sono disarmate di fronte a una scelta che comunque è fatta crea risentimenti resistenze eccetera e fanno la cosa più facile non decidere ma a forza di non decidere si fa il contrario di quello che tutti noi stiamo dicendo e siccome siamo tutti abbastanza grandi mi pare come età e di cose ne abbiamo viste forse questo è il caso di sottolinearlo grazie professore ecco il tempo a nostra disposizione è terminato non so se c'è qualche domanda dal pubblico se qualcuno ha ancora una curiosità se vuole intervenire su qualche argomento che non siamo riusciti a toccare vediamo se ecco vedo una mano alzata e ho il microfono sono Nicola Sani e sono direttore artistico dell'Accademia Chigiana di Siena mi ha molto interessato il discorso che ho fatto tra i vari dati che sono stati presentati il discorso sulla cultura sui dati della cultura e poi Marco Cammelli come sempre illuminante mi ha dato mi ha fatto mi ha acceso una scintilla e cioè quel dato che il dottor Marco Forster ha presentato di una diciamo complessiva sofferenza nei confronti dell'incasso dagli spettacoli cioè il fatto facciamo tanti spettacoli ma non li sappiamo realizzare è un dato che va letto perché per decidere e secondo me è giustissimo quello che ha detto Marco Cammelli dobbiamo decidere dobbiamo scegliere per scegliere bisogna sapere analizzare bene allora fermo restando un dato che dove c'è dentro anche onnicomprensivo dove c'è dentro anche lo sport quindi insomma bisogna vederlo meglio diciamo così per quanto riguarda la cultura non voglio dire che non entro nel discorso che lo sport non è cultura no diciamo pensiamo alle diverse situazioni pensiamo e dico questo perché da non senese che vivo però e lavoro soprattutto lavoro a Siena da cinque anni sul progetto di totalmente di trasformazione di quella che è stata una vecchia gloria all'Accademia Chigiana per trasformarla in una nuova gloria e dico Siena attenzione non ha una fondazione lirica non ha un teatro di tradizione non ha delle strutture stabili che fanno spettacolo diciamo in maniera standard diciamo così non ha un grande festival rock come ad esempio Luca non so per dire quindi non fa quei numeri lì fa però un numero che se la batte con queste città siamo un po' sotto ma non tanto sotto a città che hanno invece questo tipo di strutture che hanno dei teatri di tradizione eccetera abbiamo visto che fa un grande numero di spettacoli un grande numero di spettacoli a questo numero di spettacoli attenti a quel dato che mi ha interessato partecipano molte persone paganti abbiamo mentre ci sono città dove il 50% di persone che partecipano a spettacoli a quel quantitativo non sono paganti Siena invece ha l'80% di persone paganti anche questo è un dato interessante quindi significa che da certi dati positivi si può partire si deve partire e cioè Siena è una città dove si fa una straordinaria qualità una straordinaria qualità adesso dal dato se dal dato andiamo all'insider l'insider vi dice che quella qualità c'è perché la realizziamo e la testimoniamo giorno per giorno non sono Mediacchigiano Siena Jazz c'è il Franci ci sono altre istituzioni che fanno spettacolo poi c'è il teatro i teatri comunque fanno le loro stagioni anche se non sono teatri di tradizione eccetera allora Marco Cammelli ancora ci dà la soluzione dice forse bisogna valorizzarle di più forse anche in termini di pubblicità pubblicità in senso positivo in senso progressivo e cioè Siena ha tutte le qualità per arrivare da qui al 2030 ad essere una polis straordinaria dove la grande cultura quella con la C maiuscola si unisce anche alla fruizione al dato di pubblico con numeri interessanti penso a Salisburgo non è che Salisburgo sia una metropoli tentacolare Salisburgo è una città che ha valorizzato fortemente ciò che aveva cioè un grande festival del passato che ha saputo trasformare in un grande festival del futuro il passaggio dall'era Foncarian all'era Mortier è stato questo però è una città che è pilotata su questo voglio dire uno arriva a Salisburgo e sente respira il festival ecco questo tipo di di importanza bisogna che a un certo punto quando Marco Cameri dice bisogna scegliere ma scegliere non così a caso vediamo adesso cosa prendiamo scegliere su ciò che di meglio siamo in grado di produrre e quel tipo di produzione è nel dato allora quel dato non è negativo diventa negativo se è reiterato ma se su quel dato noi basiamo un processo di sviluppo ci rendiamo conto che Siena ha carte molto più solidi di tutto quell'elenco che abbiamo visto che è facilmente superabile perché l'assestato c'è così pure l'alta qualità dell'offerta c'è così pure la partecipazione c'è manca diciamo quello che è vogliamo dire la realizzazione in termini economici di questo ma su questo si tratta di impostare un piano ben chiaro di sviluppo grazie grazie a lei altre domande? vieni qui per favore così ti sentono tutti meglio le do del tu perché la conosco da molto tempo scusate mi scusi vorrei appunto dire una cosa ovvissima e molto mainstream come si dice nel nostro linguaggio a Strasbourg c'era nato Mozart quindi sono un po' partiti prima di noi purtroppo tocca essere è vero professore lei ha detto una cosa estremamente importante dobbiamo pensare al target e dobbiamo pensare al fatto che forse ci siamo un pochino troppo suonati e cantati sono stata nella comunicazione dell'Accademia di Giorno per tanti anni abbiamo fatto cose di qualità altissima ma che nessuno ascoltava a questo punto della questione noi ci dobbiamo chiedere quanto questa purtroppo drammatica globalizzazione ha coinvolto tutto il mercato dell'economia vero professore quindi io sono d'accordo con lei la qualità e il cibo perché i nostri ospiti e non voglio parlare di clienti ma si sta parlando di un segmento che in questo momento assiana una rilevanza il turismo lo sapete insomma ci stiamo vestendo da morire chiedono per l'appunto una semplicità di vita forse al nostro tempo ci siamo un pochino troppo come devo dire arroccati su una presunzione di importanza ritorniamo un po' sulla terra forse e capiamo che queste persone che vengono a Siena spesso drammaticamente non conoscono il palio e mi guardate con questo occhio sconvolto però è così cioè quando io sto al desk devo raccontare che cos'è il palio allora io penso abbiate capito esattamente il punto della mia questione ascoltiamo molto ascoltiamo molto quello che è diciamo la voce del mondo perché solo così riusciremo a guardare al 2030 grazie grazie mille altre domande mi pare di no bene a questo punto credo che possiamo concludere così i nostri lavori ringraziando moltissimo i relatori e voi che ci avete seguito fino a quest'ora grazie mille a presto grazie mille 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 Grazie a tutti.